19 ottobre 2014, quarta Sportway Lago Maggiore Marathon. 42 km di emozioni tra Verbania e Stresa. Gara podistica internazionale su diverse distanze, sport expo e corse non competitive sul lungo lago di Verbania per passare un pomeriggio di festa e sostenere i nostri progetti benefici. Diventa protagonista anche tu dell'evento sportivo più importante della provincia. ...diretta al lungo lago di Pallanza, dove stiamo per trasmettervi in telecronaca diretta integrale ed esclusiva la quarta edizione della Lago Maggiore Marathon, evento organizzato dalla Sport & Promotion di Paolo Ottone. Non sarò solo, chiaramente eccoci qua, per... ...diretta al lungo lago di Pallanza, dove stiamo per trasmettervi in telecronaca diretta integrale ed esclusiva la quarta edizione della Lago Maggiore Marathon, evento organizzato dalla Sport & Promotion di Paolo Ottone. Non sarò solo, chiaramente eccoci qua, per questa fase di commento. Con me anche Mauro Bernardini, che esordisce oggi sul grande schermo. Mauro, benvenuto. Qui c'è già un caos veramente importante per quel che riguarda la partenza di questa maratona. I temi delle gare, poi andremo nello specifico con quelle che sono le gare, perché non si corre solo una maratona. Quali possono essere i momenti? Intanto arrivano le immagini anche dalla partenza, che poi è qui a pochi metri di distanza. Buongiorno, buon lavoro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Esordisco nelle vesti di speaker a fianco di Gianluca. Comenteremo questa bellissima manifestazione con circa 2.300 partenti, quindi una bella massa di gente che ci metterà in questa maratona del Lago Maggiore. Maratona del Lago Maggiore, hai parlato di tanti partenti. Noi possiamo andare anche a dare qualche numero ufficiale per quel che riguarda quelli che sono i partenti in Pettorina Gialla, i partecipanti alla vera e propria gara di maratona, quella sui 42 chilometri e, per essere precisi, 42 chilometri e 195 metri. Sono 609 e gareggiano in Pettorina Gialla. Per quel che riguarda la 33 chilometri, che è un'altra delle gare che partirà da Verbania e arriverà a Verbania, come la classica maratona, quella sui 42 chilometri, avranno un giro di Boa poco prima di Stresa, ci sono 642 partenti. La 21 chilometri, la mezza maratona, partenza da Verbania, ecco qua il portale d'arrivo, partenza da Verbania e arrivo in quel di Stresa sono 1.006 partenti, sono 74 i partenti, della 21 più 21 la staffetta, ovvero quella dei due atleti, uno che corre da Verbania a Stresa e uno che corre da Stresa a Verbania, sono 74, quindi 2.331 partenti, direi che sono numeri di ottima caratura. Direi che sono ottimi numeri in funzione anche a delle molte maratone che ci sono in questo periodo, portare qui così tanta gente è un buon successo, soprattutto per una manifestazione giovane che è appena nata. Sì, una manifestazione giovane che è appena nata, che nasce sulla scorta, diciamo così, delle edizioni della Lago Maggiore Alf Marathon, peraltro ti do una curiosità Mauro, quando nacque la Lago Maggiore Alf Marathon, poi avremo modo di vedere, in questo caso, nacque nel 2008, avremo modo di vedere anche delle belle clip dopo la partenza, ci fu proprio la diretta televisiva e vinse, poi andremo a vederlo, un tuo compagno di squadra, Sergei Liebid, che sicuramente tu ricordi, ma avremo modo di parlarne successivamente. Sempre immagini che vi giungono dal lungo lago di Pallanza, di Verbania, per essere precisi, questa Lago Maggiore Marathon, tu non ti cimentavi, ecco le immagini dei cosiddetti, delle cosiddette griglie, no? Tu non ti cimentavi però nella maratona, non eri un maratoneta, vero? Non ero un maratoneta, mi sono cimentato un paio di edizioni, in una Milano Marathon, Tanta roba, eh? Nel 2008, mi sembra, e nel 2004, nella maratona di Alessandria. Terminate entrambe, ma con molta, molta fatica. Allora, noi intanto dobbiamo dirlo, non abbiamo ancora una lista definitiva dei partenti, in quanto, in quanto, questa ci verrà portata dall'organizzazione subito dopo la partenza, in quanto ci saranno, eh, così, degli aggiustamenti. Salutiamo tutti gli amici che ci stanno ascoltando in telecronica diretta, chiaramente, sugli schermi di VCO Azzurra TV, tanto queste sono immagini bellissime dei nostri operatori, si, 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 che si preparano per partire, salutano, ma salutiamo anche coloro che ci seguono in streaming sul sito lagomaggioremarathon.it e anche sul nostro portale, portale di VCO Azzurra TV, www.tuttonotizie.info questo intanto è il riconoscimento, è lui, è lui, è grande giudice, è grande giudice Greggio, non può mancare Greggio, che tra l'altro è papà della mitica Valentina Greggio, recordman nel chilometro lanciato. Siamo sempre nelle fasi preliminari di partenza, si parte alle 9 per tutte le manifestazioni, noi staremo insieme per un buon periodo, per circa 3 ore, quindi vivremo veramente tutti gli arrivi, ogni manifestazione, lo ripetiamo ancora per la vostra osservazione, quando poi sarete pronti a partire. Maratona, gli atleti che partecipano alla 42 km, Maratona con la Pettorina Gialla, la 33 km, Pettorina Ciclamino, la Mezza Maratona a 21 km, la Pettorina è arancione, mentre per quel che riguarda la staffetta 21 più 21, la Pettorina è verde, questo giusto anche per la vostra osservazione, perché come detto, sono più gare in una gara. Intanto guarda, ho piacere di vedere, è passato così, fatemi fare un pochino di rimembranza, il mio professore di italiano delle medie, che è un noto, è un noto mezzo maratoneta, sì, lui si diverte a correre, è anche sempre bello vedere queste immagini, chiaramente, ecco, due belle signorine, però dicevamo, è bello vedere che, esatto, il bello dell'atletica, è bello vedere che queste sono gare veramente aperte a tutti, Maratona. il fascino secondo me di questo sport è proprio che, nella stessa manifestazione, si possono mischiare gli ultra professionisti, top atleti, con l'amatore. Ecco, hai fatto, hai detto una cosa importante, adesso entriamo subito in un discorso tecnico molto particolare, hai parlato di top atleti, non ci sono i top atleti etiopi, keniani, che negli anni passati, intanto guarda, siamo in onda, che negli anni passati hanno, diciamo pure monopolizzato, i successi di questa, Lago Maggiore Marathon. non avremo tempi sui 2.10, 2.12, 2.14, sarà una gara livellata su tempi più alti, però sicuramente comunque molto competitiva, molto bella da vedere. Secondo me è uguale all'inizio allo spettacolo, perché almeno troveremo qualche atleta in più, che riuscirà a darsi a battaglia fino alla fine, e quindi saremo qua tutti con il suspense. Saremo qua sicuramente con il suspense, perché lo spettacolo è veramente tanto, che abbiamo anche qualche bella immagine paesaggistica, la bellezza del Lago Maggiore, non è una giornata attualmente bella e calda come ieri, ieri quando siamo giunti insieme all'amico e collega Ivo Casorati, uno dei responsabili organizzativi, ufficio stampa della manifestazione, siamo venuti a fare il servizio di lancio per la maratona, era una mattinata molto calda, adesso invece mi sembra, va bene che è presto perché sono le 9-5, mi sembra una giornata abbastanza fresca. Ma diciamo che percorrere le condizioni sono ottime, sono ideali, perché comunque ieri abbiamo toccato delle temperature intorno ai 25 gradi, credo, e correre dopo due ore e mezza a trovarsi è veramente difficile. Percorrere è l'ideale, quindi aspettiamoci... Le condizioni ci sono tutte per fare bene. Lui non la fa la maratona, il cagnutino che sta passeggiando. Intanto mi permetto anche di dire una cosa, sempre in attesa del colpo di pistola della partenza, salutare e ringraziare tutti coloro che sono impegnati in questa mattina, quindi tecnici, operatori e anche noi commentatori, chiaramente, perché si tratta di uno sforzo organizzativo sicuramente molto intenso, ma viene fatto per portarvi direttamente live nelle vostre case, in lo spettacolo della Lago Maggiore Maratona. Siamo pronti? Sì, Mauro, raccontaci tu che l'hai vissuta e che le vivi ancora, i momenti in cui ti trovi lì nella griglia pronto a partire, aspetti il colpo di pistola. Questi momenti l'adrenalina è a mille, i secondi che anticipano il via di una manifestazione sono lunghi, interminabili, aspetti soltanto lo sparo della pistola per scaricare tutto quello che hai in corpo. Hai le gambe che non vedono più, non vedono l'ora di partire, sono veramente cariche, queste sono immagini proprio del momento di partenza, c'è un po' di gente davanti, chiaramente in gergo tecnico si dice che sono un po' sporche, però è normale perché diciamo che è un momento abbastanza caotico, ogni cosa bisogna farla partire. Ecco Paolo Ottone, l'abbiamo visto, credo che poi avremo anche la possibilità, però non vorrei dire cose assurde, mi auguro di non passare davanti alla telecamera perché sennò diventa un piccolo problema e è difficile andare avanti ma torniamo a commentare, poi ci mettiamo i carabinieri di davanti dove abbiamo il nostro operatore che viene disturbato dai disturbatori ma noi siamo nelle immagini precedenti alla partenza, vediamo le moto staffette, sono immagini amici che vi giungono in diretta da Verbagna alla partenza della quarta edizione della Lago Maggiore Marathon. Eh sì, tutto pronto, dopo mesi di lavoro dello staff di Paolo Ottone siamo qui, grandi momenti che anticipano il via. Sì, sono i grandi momenti che anticipano il via, anche qui poi magari avremo modo di dirlo dopo la partenza quando potremo mandare anche le immagini storiche, eccolo qua Ottone che sta telefonando, ultime telefonate. te lo dico per esperienza, organizzare è difficilissimo e quindi immagino che anche lui di adrenalina ne abbia abbastanza. credo di sì, organizzare poi una maratona è veramente un'impresa mica da poco, cioè logisticamente deve essere al top. Peraltro non dimenticate che nel pomeriggio poi ci saranno anche le cosiddette non competitive con la Lago Maggiore Bambini Run, 500 metri, potremmo farlo anche io e te. Sì. Partenza alle 14.45 e la Lago Maggiore Mini Marathon, 2 chilometri, partenza alle 15. Quindi magari della 2 chilometri potremmo anche vedere di andare a farla. Tu eri competitivo sulle 2 chilometri. Eh, come? Mauro Bernardini, eccole qua, sempre le immagini che ci giungono da Largo Tonolli, sede di partenza della mezza, della mezza maratona, staffetta, 33, tutte. Di tutte le gare, bella anche l'idea della staffetta, uno staffettista che corre 21 chilometri da Verbania a Stresa, cambio, non credo che ci siano testimoni da passare, basta toccarsi. Sì, basta toccarsi. E poi la partenza. Intanto ci sono gli amici, ecco qua, vedete che ci sono anche in piazza, gli amici del Dr. Clown, eccoli qui, vedi, basta andare a prenderli subito, sono gli amici del Dr. Clown che poi oggi porteranno a correre anche gli atleti, i ragazzi, chiamiamoli pure atleti anche loro perché corrono un pochino più sfortunati, sono simpaticissimi e fanno parte dei gruppi benefici a cui verranno devoluti gli incassi, diciamo così, delle gare non competitive di quest'oggi, sono la Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica, l'associazione Veronica Argentonus, sono mie care amiche perché fanno anche ginnastica ritmica e tutto quanto, però prima di andare avanti, attenzione perché ho visto muoversi Paolo Ottone, quindi direi che siamo vicinissimi al colpo di pistola, il momento che tutti stanno aspettando ed è partita in questo momento la Lago Maggiore Marathon, bellissimo, ecco i pacemaker con i palloncini, poi spiegheremo cosa sono i pacemaker, raccontaci cosa si prova in questo momento, tanto passano anche davanti alla nostra postazione. Ecco, una bella fiumana di gente, 2300 persone, qui in questi momenti, niente, comincio a sentire anche la gioia, dopo l'adrenalina dei momenti d'attesa, la gioia di poter liberare tutta la tua energia. E lasciami dire, lasciami dire che anche per chi è semplicemente appassionato di sport, poter raccontare la partenza di 2331 atleti è qualcosa di entusiasmante, eccoli qua che stanno arrivando davanti alla nostra postazione, esatto, davanti alla nostra postazione fioccano gli applausi, credo che li possiate sentire, sono 2331 ed è veramente uno spettacolo amici, stiamo veramente vivendo qualcosa di bello, salutano anche con la sirena, i battelli voi non potete sentire, ma li abbiamo sentiti anche noi, e il bello di queste gare è che sicuramente ci sono gli atleti accreditati a vincere, ma poi la forza di queste gare sono questi qua, è la massa di quelli che non sono in prima fase. Eccoli qua intanto i palloncini dei pacemaker, poi andremo a spiegare, sono coloro che dichiarano un tempo e hanno una sorta di lepre che gli permette di correre e concludere la maratona in un certo tempo, immagini bellissime anche dal basso. Correndo il più uniforme possibile. Esatto, guardate qua che belle immagini che arrivano praticamente davanti alla nostra postazione, guarda che serpente, guarda che serpentone spettacolare che vediamo alla partenza di questa Lago Maggiore Marathon. È davvero entusiasmante, no? Bellissimo, bellissimo. Passano davanti alla nostra telecamere, intanto ecco altri pacemaker, eccoli qui. Non finiscono più. Non finiscono più, e il bello è anche questo, vedi? La partenza e salutano amabilmente, è una bella giornata di festa se vogliamo per loro. Sì, sostanzialmente è una giornata di festa, lo sport è festa. Tu salutavi le telecamere quando partivi o...? Sì, perché all'arrivo non avevo la forza. Ah, ecco, ecco, non avevi la forza, intanto ancora continua la fiumana di grandi corridori, guarda che bello, davvero molto molto entusiasmante vedere questi passaggi. C'è chi c'è a prendere con comoda, tranquilli. Sì, questi partono veramente molto piano, molto tranquilli, però sono tantissimi. Ricordiamo, ricordiamo ancora per la vostra osservazione, pettorale giallo sono gli atleti che corrono la Maratona, pettorale ciclamino corrono la 33 km che parte da Verbania e torna qui a Verbania, pettorale arancio per la mezza Maratona da Verbania a Stresa e i pettorali verdi sono invece quelli della staffetta. Io sono veramente emozionato, non so te, ma vedere la gente che esulta davanti alla telecamera vuol dire che veramente l'hanno presa bene, no? Guarda che belle immagini, favolose. Sono veramente belle immagini e devo dire che poi magari ci sarà anche chi farà molta più fatica, no? Quindi veramente la prendono bene. Beh, certamente la fatica per tutti c'è in questa Maratona, per forza. Maratona che, come detto, si corre storicamente sui 42 km e 195 metri che sarebbe la leggendaria distanza da Sparta ad Atene corsa dal messaggero Filippide per annunciare la vittoria degli Atenesi sugli Spartiani gridando la famosa frase Caire, Tenicamen, Nenichekamen, Rallegrate, avevamo vinto, abbiamo vinto cadendo poi stremato. Abbiamo fatto anche un po' di storia e gli insegnanti di Greco Latino saranno fieri di noi per questa citazione bellissima sulla storia. Continuano, guarda quanti sono, Mauro, eh? Sono infiniti, veramente. Questo è un fatto importante che vuol dire anche che comunque la gara sia molto sentita e piaccia, no? Beh, sicuramente... di tutto si può dire, a meno che la maratona e anche la mezza maratona del Lago Maggiore non offre uno spettacolo, uno scenario tra i pochi visti nel mondo, insomma. Per cui attira sempre un sacco di gente. Intanto, davanti alla nostra postazione la Medical Car, il mezzo di fine gara quindi vuol dire che siamo ormai lanciati con la partenza di questa maratona. Noi poi avremo a breve altre immagini importanti ma tra qualche attimo, non appena saranno terminati anche tutti i passaggi qui, andremo con la storia del Lago Maggiore Marathon e poi anche della gara che ha fatto da prologo, ha fatto un pochino da inizio delle attività organizzative della Sport Promotion, la Lago Maggiore Marathon che ha visto anche Mauro Bernardini come corridore qualche anno fa. Guarda che roba, guarda che fiumana di gente entusiasmante da vedere. Veramente emozionante. Veramente, veramente bellissime queste immagini che arrivano dall'alto. È una fiumana di gente ma del resto sono 2331 atleti che sono in gara. Adesso chiaramente la fatica non la senti ancora. Qui senti ancora la gioia di correre. Chiaramente per i maratoneti devi fare almeno una trentina di chilometri in assoluta autonomia. Poi comincia a farsi sentire la fatica e gli ultimi 12 sono veramente duri. Arriveremo a parlare più tardi di come si prepara una situazione di gara una maratona che sicuramente è spettacolare però va preparata in un certo modo proprio per non arrivare ad avere delle difficoltà. Intanto vediamo le immagini della Medical Car della fine gara dell'ambulanza che comunque segue giustamente la corsa perché ci può stare senza andare a pensare a chissà che cosa però ci può sempre stare la necessità di avere un intervento medico. Direi se la nostra regia è d'accordo e attendo magari un cenno di andare con le due clip che sono state preparate dai nostri amici di fine di stile corsa con la storia della Lago Maggiore Marathon e la storia delle otte edizioni della Lago Maggiore Alf Marathon che sono appunto queste due gare organizzate da Sport Promotion attendiamo che ci mandino dunque i contributi in attesa poi di rivivere proprio dalle nostre moto che sono in in gara le prime fasi le prime fasi di corsa tra poco arrivano guarda come siamo belli in immagine salutiamo anche quelli che ci seguono a casa andiamo andiamo con le immagini storiche della Lago Maggiore Marathon abbiamo anche la musica queste sono le partenze della prima edizione 2011 qui chiaramente i classici keniani pronti via arrivederci e grazie salutano la partenza salutano tutti e se ne vanno come oramai ci hanno abituato in tutte le gare del mondo erano partiti chiaramente è una gara che da subito si è resa molto spettacolare partenza da Arona per quel che riguarda la prima edizione perché poi abbiamo anche avuto tante altre cose andando guarda qui ci vengono a salutare i vari speaker che dovrebbero andare a fare il loro lavoro ma andiamo avanti a seguire il passaggio da Stresa partenza da Arona arrivo a Verbania per i 42 km 195 la vittoria per Di Babatola etiope in 2.13.49 che è ancora il miglior tempo della storia della Maratona per quel che riguarda le donne era una fuga a due tra IFA Geletu e Anelmien Wolf Michael che arrivano vince la Geletu IFA 2.43.14 quindi è stata sicuramente una edizione molto spettacolare perché ancora oggi quello è il miglior tempo di Maratona secondo anno 2012 sempre da Arona a Verbania era un percorso come si dice molto flat molto molto piatto si molto molto più lineare diciamo di si un paio di strappettini c'erano però si era era sicuramente molto molto interessante queste sono le figure la partenza da Arona si poi si lasciò dalla edizione dell'anno scorso ma lo vedremo Arona che ha fatto da prologo per due edizioni della Maratona immagini sicuramente il bello si dice proprio vieni a correre sul tracciato più bello del mondo io credo che sia vero così perché una Maratona che costeggia paesagisticamente parlando delle località come il Lago Maggiore ne trovi poche io posso affermare che una manifestazione così gare ne ho fatte non ne ho visto veramente poche è davvero entusiasmante le immagini dei passaggi a Stresa in località Stresa per quel che riguarda l'arrivo e a vincere a vincere questa edizione c'è un atleta che poi a breve vedremo che tu dovresti conoscere anche il suo fratello dovresti conoscere Vise Benazuz Slimani adesso lo vediamo in 2.14.59 che ebbe come lepre per buona parte della gara il fratello Kadur si le conosco benissimo sono stati i miei compagni di società alla cover fino al 2010 2011 mi sembra si sono Kadur Slimani adesso vive comunque qua nella nostra zona mi sembra verso la zona di Omenia Benazuz forse adesso si è trasferito a Padova tanto le immagini invece della partenza della terza edizione da Verbania a Verbania e anche in questo caso c'erano i top atleti africani ci vediamo ci vediamo all'arrivo sono andati belle intanto queste clip lanciate e confezionate dal nostro Walter Cerutti stile corsa che collabora attivamente con Vicio Azzurra TV per quel che riguarda questa teletronica guarda che belle immagini anche queste Mauro hai modo quando corri una maratona del genere di guardare il paesaggio così o sei concentrato a far andare le gambe beh certamente se cerchi una prestazione di un certo livello non hai molto molto tempo di guardarti in giro però ci sono dei momenti in cui in una maratona devi obbligatoriamente staccare il cervello e pensare a qualcosa altro e cosa meglio della Lago Maggiore Marathon ti può dare sì sì sempre che non trovi una giornata di brutto tempo come vedremo poi successivamente è una classica giornata autunnale Charlemaina Keniano 2.16.50 arriva primo sul lungolago di Verbania al secondo posto arrivò Benazuz Slimani 2.20.07 e attenzione tra le femmine eccola qua Zeytuna Mude che ha ottenuto il miglior tempo sino ad ora della storia della Lago Maggiore Marathon 2.37.17 quindi di Babatola la prima edizione e la Mude in questo caso con la medaglia per i finisher è quella che ha ottenuto la miglior prestazione ci arriva il commento dalla regia noi ci lasciamo per un istante di pubblicità poi torneremo qui per vivere insieme la nostra maratona la Lago Maggiore Marathon Gianluca Trentini Mauro Bernardini non andate via vi aspettiamo troppo tardi 19 ottobre 2014 quarta sportway Lago Maggiore Marathon 42 km di emozioni tra Verbania e Stresa gara fodistica internazionale su diverse distanze sport expo e corse non competitive sul lungo lago di Verbania per passare un pomeriggio di festa e sostenere i nostri progetti benefici diventa protagonista anche tu dell'evento sportivo più importante della provincia info su www.lagomaggioremarathon.it diretta lungo lago di Pallanza dove stiamo per trasmettervi in telecronaca diretta integrale ed esclusiva la quarta edizione della Lago Maggiore Marathon evento organizzato dalla sport and promotion di Paolo Ottone non sarò solo chiaramente eccoci qua per vedere le immagini eccole qua torniamo in diretta dalla Lago Maggiore Marathon telecronaca diretta integrale su Vizio Azzurra TV allora Mauro prima di andare a vedere la storia della gara che poi ha lanciato le attività organizzative della sport promotion la Lago Maggiore Alf Marathon dobbiamo terminare un discorso che avevamo iniziato e abbiamo dovuto come senti in gergo tranciare per la partenza quella dei progetti benefici nel pomeriggio ci sono le gare di contorno l'abbiamo detto le ripetiamo noi qui possiamo farlo vedere abbiamo il programma ufficiale di gara con tutto quanto le race info con tutto quanto è scritto al pomeriggio alle 14.45 la Lago Maggiore Bambini Rana di 500 metri al 15 la Lago Maggiore Mini Marathon di 2 km partecipando a queste gare con i proventi con così detta drasticamente la moneta i soldi raccolti dalle iscrizioni si potranno aiutare queste associazioni che ora andrò a citare la fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica la associazione Veronica Argento Ollus che ricorda appunto Veronica Argento questa sfortunata ginnasta della ritmica VCO che è mancata per un male incurabile e l'associazione Laisla associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica e fammi fare una battuta lo si fa senza doversi tirare un litro di acqua addosso come ha dato di moda in questa estate la Doctor Clown VCO gli amici del cuore VCO il progetto Rebecca che aiuta una scuola marianista in Africa la fondazione Tonoli l'associazione aiutare i bambini ABIO associazione ai bambini in ospedale e la scuola materna Don Bosco di Villa Dossola io credo lo dico anche adesso a chi magari è davanti alla televisione a seguire la nostra telecoronaca io credo che 500 metri passeggiando si possano tranquillamente fare alla portata di tutti quindi quando il sottoscritto e Mauro Bernardini terminano la diretta voi spegnete la televisione venite in piazza vi iscrivete e aiutate queste associazioni perché appunto iscrivendovi a queste manifestazioni potrete aiutare queste associazioni insomma fare del bene alla fine è sempre bello e certamente bisogna ricordarsi che ci sono tante persone che dedicano la loro vita per per questa associazione quindi è giusto nel nostro piccolo riuscire a dare una mano è un piccolo gesto che è di un grande significato è un grande significato è veramente una bellezza devo dire che siamo messi anche bene perché guarda che bello sfondo che abbiamo potremmo farci fare un poster mandiamo la clip sì mandiamo la clip della Lago Maggiore Alf Marathon 21 km 975 la prima edizione eccola qua prima edizione no andiamo da quella del 2012 quindi vediamo le ultime tre diciamo poi andremo magari a riassumere quello che è successo prima nel 2012 si parte da Verbania si arriva a Stresa e così possiamo anticipare che sarà poi anche quello che succederà l'anno prossimo e per qualche anno da quello che si sente in giro gli organizzatori dovrebbero lasciare la zona questa è una zona di spugnaggio la zona d'arrivo della mezza maratona in quel di Stresa nel 2012 vinse Beleia Bedede etiope questo è il passaggio da Ferriolo vedi che anche in questo caso arrivederci e grazie quando gli etiopi dicono che è ora da andare se ne vanno ma detto con il più grande rispetto in Casidale che adesso sono atleti favolosi eccolo qua Beleia Bedede un'ora e 59 un tempo di tutto rispetto un tempo di tutto rispetto mentre questa qui è Jemina Jelgat che con il tempo di un'ora 08.35 ha staccato l'attuale record di gara del Lago Maggiore Alf Marathon diciamo che vincerebbe molte gare anche a livello maschile con questo tempo si è un tempo sicuramente di grande interesse andiamo invece al 2013 con il percorso inverso da Stresa a Verbania pum colpo di pistola pronti via si va che è un piacere ne abbiamo vissute prima in diretta sono molto belle e anche in questo caso ormai è assodato quando è ora ad andare i grandi atleti grandissimi davvero perché bisogna dirlo vanno e fanno veramente gara a sé veramente è uno spettacolo al di là della velocità in cui tengono questi africani veramente è uno spettacolo vederli correre la loro leggerezza una falcata favolosa sì sono nati solo per correre sembrano veramente nati per correre noi abbiamo visto ancora le immagini che sono veramente spettacolari purtroppo io detto da me purtroppo ce la diamo solo nelle corse mi sono sempre ritrovati davanti infatti infatti quello che volevo dire è che tu Mauro Bernardini che hai fatto queste gare i corridori africani in partenza li salutavi poi quando arrivavi loro erano già sul podio Luca Rotic Luca Rotic un'ora 00.14 questa è Tadalek Bekele che con l'109.31 ha ottenuto comunque il miglior tempo di percorrenza il record della Yelgat l'abbiamo visto da Verbagna a Stresa da Stresa a Verbagna la Bekele ha ottenuto con l'109.31 il miglior tempo della manifestazione queste sono le immagini della Lago Maggiore Alf Marathon quest'anno quindi abbiamo fatto un salto temporale di qualche mese da Verbagna a Stresa e è un po' il light motive 1, 2, 3, 4, 5, 6 i top atleti che sono andati via e sono andati appunto in testa vanno a fare veramente gara a sé molto spettacolare immagini che come vedete arrivano dal dal nostro Walter Cerutti di Stile Corsa che quest'oggi comunque collabora attivamente anche con regia e immagini di VCO Azzurra TV questo è il passaggio in quella di Stresa perché è stato cambiato è stata cambiata parte del percorso non si arrivava direttamente a Stresa ma a Stresa vedete sul rettilineo opposto si andava più avanti giro di boa e questo Edwin Kibetkirch 1, 0, 0 e 47 davanti a Hilary Kipciumba 1, 0, 1 e 11 a vincere la Lago Maggiore Alf Marathon del 2014 invece Vanagesh a mare vinse il 1, 10, 0, 8 davanti a due atleti della nazionale cinese e Jing Li e Zhang Jing Jing non è facile pronunciarli però ti dico se non ci fanno paura gli arabi durante il sordo estate andiamo tranquillamente anche con i cinesi non abbiamo avuto modo di vedere le immagini ma è giusto citare che il record del Lago Maggiore Alf Marathon è di The Ray Edeme con 1, 0, 0 ne parleremo quando rientriamo un istante di pubblicità e poi torneremo qua in diretta con la Lago Maggiore Marathon 2014 restate con noi 19 ottobre 2014 Quarta Sportway Lago Maggiore Marathon 42 km di emozioni tra Berbania e Stresa gara fodistica internazionale su diverse distanze Sport Expo e corse non competitive sul lungo lago di Berbania per passare un pomeriggio di festa e sostenere i nostri progetti benefici diventa protagonista anche tu dell'evento sportivo più importante della provincia Info su www.lagomaggioremarathon.it Diretta lungo lago di Pallanza dove stiamo per trasmettervi in telecronica diretta integrale ed esclusiva la quarta edizione della Lago Maggiore Marathon evento organizzato dalla Sport & Promotion di Paolo Ottone non sarò solo chiaramente eccoci qua per e torniamo torniamo in diretta sulle immagini paesaggistiche del Lago Maggiore telecronica diretta del Lago Maggiore Marathon edizione 2014 stavamo parlando prima del Lago Maggiore al Marathon intanto riscorrono le immagini perfette la nostra regia ci fa rivivere le immagini che abbiamo visto in precedenza poi avremo altri altri momenti belli da vivere stavamo parlando dell'edizione del 2011 di The Ray Edeme che fece un'ora netta e io ricordo benissimo perché in quel periodo ero tra gli speaker della manifestazione che a circa 100 metri praticamente smise di correre e così non riuscì a fare 59.8 59.9 lui ha smesso tranquillo ha alzato le mani si è bullato di se stesso e non è riuscito a fare 59 altrimenti avrebbe reso addirittura migliore il record dell'ora secca certo scendere sotto l'ora sulla mezza sulla mezza maratona è un tempo che riescono a fare veramente pochi pochi atleti al mondo per cui si è giocato questa possibilità e magari che no che tempi hai sulla mezza io sulla mezza maratona ho fatto nel 2003 un'ora un'ora tre minuti e 55 secondi non è male perché se poi tu pensi che è stata vinta nel 2010 da Musiocchi in un'ora 0-2 oppure così in un'ora addirittura a Sergei Liebid la prima edizione sotto un tempo da tragenda me la ricordo benissimo forse l'hai anche corsa l'ha vinta il 1-03-32 insomma vuol dire che tu sei uno che la gambetta la fa andare quando vuole diciamo che si l'ho fatta andare gli anni scorsi tra poco avremo modo di vedere ma attendiamo la comunicazione attendiamo che ci mandino le immagini avremo modo di vedere i primi chilometri di gara i primi 4 chilometri di gara quindi praticamente il giro qua intorno a Verbania grazie alle immagini giunte dalla nostra moto in gara intanto vediamo quello che abbiamo visto in precedenza vediamo la partenza sì con le immagini di gara Mauro come preparavi tu in questo caso una mezza una gara una staffetta come preparavi tu nei giorni precedenti come ti allenavi una manifestazione del genere così magari chi ci ascolta da casa può anche trarre qualche spunto interessante beh certamente per preparare una maratona non si può improvvisare per cui deve avere alle spalle un minimo di allenamento un minimo di chilometraggio perché 42 chilometri veramente non si possono improvvisare per cui ci vogliono almeno 3 mesi 4 mesi di allenamento e chiaramente devi enfatizzare la tua preparazione sul sul volume non tanto la velocità ma il volume la mezza maratona magari poi sicuramente con i ritmi che ci sono al giorno d'oggi devi enfatizzare la velocità ma la maratona sostanzialmente tanti tanti chilometri intanto nelle immagini abbiamo visto l'abbiamo citato anche in precedenza abbiamo parlato dei cosiddetti pacemaker vuoi spiegare cosa sono i pacemaker peraltro lo scorso anno Charles Maina che vinse in 2.16.50 partì come pacemaker poi non si trova più dietro nessuno ha fatto gara da solo e ha vinto entra un pochino nello specifico di cos'è il pacemaker ma il pacemaker sostanzialmente sono quelle quelle persone che devono tenere un determinato ritmo e cercarle di tenerlo il più costante costante esatto più costante possibile perché nella corsa se tu devi correre esempio a 4 minuti al chilometro non puoi fare un chilometro a 3.50 un chilometro a 4.10 la media è sempre 4 però il tuo motore finisce molto prima la benzina quindi sulle gare di maratone di mezza maratone il pacemaker ha proprio questo compito di correre il più regolare possibile ed è una cosa spettacolare perché se con il pacemaker tu dichiari di fare la maratona che ne so in 2 ore e 10 che sarebbe un gran bel tempo tu stai tranquillo che in 2 ore e 10 col pacemaker che ti scandisce l'andatura ci arrivi pace è scritto pace non è non è peace non è pace la nostra pace pace è proprio colui che scandisce l'andatura nelle gare automobilistiche americane c'è la pace car la macchina che scandisce l'andatura i pacers o pacemaker sono una cosa favolosa una costanza davvero davvero entusiasmante per per queste situazioni andiamo intanto a vedere Mauro le immagini che ci stanno pergiungere dalla regia con i primi chilometri di gara in moto e per andare poi a capire come si andrà ad evolvere la gara che stiamo seguendo tutte le gare che stiamo seguendo la Lago Maggiore Marathon ricordiamo che stiamo trasmettendo in telecronica diretta integrale sugli schermi di VCO Azzurra TV eccole qua le immagini che ci giungono dalla nostra moto pronti via colpo di pistola e qua si parte è già una bella battaglia per tenere le posizioni eh eh sì certamente le atleti che vogliono fare la gara già all'inizio è un po' come è un po' come vedere i giocatori basket che si prendono un po' a gomitate no? Sotto canestro appassionato di pallacanestro perché ti vediamo spesso a seguire a seguire le partite locali eh sono comunque immagini come è come ti sembra l'andatura in questo caso? Beh certamente senza i Keniani è l'andatura che renderà più spettacolare la gara perché non c'è nessuno che prenderà subito l'iniziativa pronti via per cui eh ci sarà da divertirsi insomma l'andatura comunque è buona perché ci sono anche quelli della 21 km quindi sì perché il pettorale arancione è esattamente quello della 21 21 km Mauro mh in questo caso i top atleti eventuali sarebbero già eh avrebbero già fatto il loro passo avrebbero già staccato tutti e avrebbero già fatto capire che ok la gara per vincere è roba nostra adesso voi fatevi la vostra eh sì però diciamo che ci sono anche dei top atleti a livello locale eh mi piacerebbe ricordare gente come Blardone che fa Gabriele Marleone che fa la maratona che comunque è uno che la corre intorno ai 2.35 quindi diciamo che chiaramente non sia sui tempi da da Kenianio ed Etiopi però non sempre dei buoni passi tipo ecco vediamoli Giovanni Latella il mio compagno di società nell'Aviso Solana anche lui che fa sembra che fa la mezza maratona c'è il pettorale giallo il pettorale giallo è la maratona da 42 km da 42 allora sì poi l'arancione invece è per la 21 allora forse sì no no mi sembra che fa la mezza maratona e comunque sì sono già comunque gente che a vederle così sembrano andature soft ma qui staranno già correndo intorno ai 3 minuti e 30 al chilometro che è dare subito una bella strappata che comunque 3 minuti e 30 al chilometro per chi per chi non è del mestiere sembrerebbe una cosa semplice alla portata da sicuro che ci vogliono motore e allenamento per tenere e allenamento sì infatti adesso vediamo che ci sono alcuni atleti che stanno prendendo il largo peraltro c'è una grande così iscrizione di atleti olandesi che sono presenti quindi non vorrei che dopo durante le premiazioni ci tocco ascoltare il Villelmos l'inno nazionale dell'Olanda perché sono veramente tanti gli atleti olandesi che sono che sono in in gara no? beh questo comunque fa onore alla Lago Maggiore Marathon portare tanti atleti e tanti atleti anche dall'estero significa soltanto la possibilità di crescere e secondo me da qua qualche anno sarà una delle manifestazioni più importanti in Italia qui siamo appena fuori dal Lungolago diciamo che stanno entrando per capirci di fronte al Grand Hotel Majestic stanno andando verso Via Vittorio Veneto c'è già un bello strappo però perché sono uno due o tre atleti che hanno preso il comando tra cui uno quello con il pettorale arancione 6041 che però corre la 21 km quindi a Stresa lui ha finito la sua fatica eh certo quindi in questo momento ci sono ancora sono ancora un po' in una fase di studio no? al primo chilometro sono passati adesso il primo chilometro quindi tutta una fase un po' di studio per capire certamente chi fa la maratona magari deve proprio ancora mettere in moto tutte le varie tutte le varie componenti sia la respirazione sia muscolare per cui i primi chilometri di studio vedremo poi da dal ottavo decimo chilometro vedremo già delle maniere un po' più delineate la corsa immagini della nostra Valentina Tamboloni in moto adesso mi devi spiegare cosa intendevi deve mettere in moto cos'è che hai detto il discorso adesso lanciati in questo in questo proclamo certamente più più la gara è lunga e minore il riscaldamento perché se per esempio dobbiamo fare una 10 km devi arrivare già pronti via è bruttissimo sia a livello rompere bene il fiato le gambe con degli belli degli allunghi che ti preparano ossa articolazione muscoli a subito a partire in maniera violenta su una maratona e anche su una mezza maratona magari parte un po' più con calma perché comunque non sei ma ma devi tenere tutte le energie per la gara per cui parti magari più di chilometri e anche lì giusto per come una macchina tu l'accendi non puoi partire a macchina freddo no se no strappa come si dice questa è la curva dell'Eden si tratta anche molto Mauro di saper gestire il proprio fisico la propria andatura il proprio fiato beh certamente di avere in testa un piano di gara passami questo termine certo certo ben preciso ben chiaro beh certamente qui comunque tutte queste atleti che oggi sono qua al via hanno effettuato bene o male tutti un minimo di preparazione quindi ecco voglio magari mettere sottolineare questa cosa che nella corsa bisogna essere è molto importante conoscersi e questo lo puoi fare soltanto con la preparazione quindi la conoscenza del proprio corpo dei propri segnali che ci invia è molto importante per poter poi gestire la corsa e cercare di portarla termine nel miglior modo possibile insomma domanda difficile come ci si idrata in corsa quanto bisogna bere quanto bisogna mangiare ci sono gli spugnaggi cosa bisogna bere cosa bisogna mangiare in corsa intanto voi non li potete vedere qua davanti a noi ci sono i giudici della FIDAL che salutiamo e ringraziamo perché giustamente vanno sempre salutati allora certamente è un discorso molto molto importante quello dell'idratazione bisogna sempre comunque bere anche in una giornata come oggi che non è che non sembra molto calda ma noi comunque disperdiamo molti liquidi per cui è importante bere ad ogni ristoro ad ogni rifornimento più importante bere che mangiare mangiare nella corsa è un po' più difficile è un po' più difficile non è come magari una gara di bicicletta che ti puoi permettere di mangiare il panino mangiare la banana queste cose che per la corsa è un po' dura noi ci nutriamo sostanzialmente con dei gel sono dei gel con un ricco contenuto di zucchero i cosiddetti succhiotti no? che schiacci sì sì quelli ci sono anche nelle gare del ciclismo quindi diciamo che roba roba solida è difficile da assumere perché comunque per uno che corre ho visto anche dalle mie esperienze personali comunque ti blocca proprio all'ello dello stomaco per cui devi prendere dei gel chilometro due chilometro due di gara queste sono immagini ricordiamo registrate dai primi quattro chilometri del lago maggiore marathon che abbiamo avuto modo di portarvi in sui vostri teleschermi riprese dalla nostra moto in gara questi sono altri atleti che sono al comando e vedi come si è molto cambiata la situazione è ancora in divenire da queste immagini ho visto che si sta portando diciamo nelle prime posizioni anche Egno Frassetti che fa la 33 chilometri mi sembra che lui stia preparando la maratona di Torino e si sta portando avanti è dato in buone condizioni di forma tra l'altro ha corso la mezza maratona di Gravellona in un'ora sotto l'ora e tredici poche settimane fa ha vinto la 5 comune 3 il riato secondo la Sgamela quindi è uno dei più forti atleti che attualmente ci sono in zona insieme a vorrei ricordare Rolando Piana grande Rolando della Genzia Nella Genzia Nella e a questo proposito che ci è stato Genzia Nella io vorrei fare un grosso saluto un grosso abbraccio al presidentissimo del Genzia Nella Gigi Corti ciao Gigi un grande Gigi è veramente una persona adesso che peraltro Gigi Corti qualche anno fa era al tuo posto in una telecora da cadiretta della Valle Intrasca quindi tu hai preso il posto di Gigi Corti cioè renditi conto un gran bel onore ciao Gigi grande Gigi Corti niente dopo tornando un po' cioè Piana poi per quanto riguarda le maratone le mezze maratone i train diciamo qua in zona poi possiamo citare anche sicuramente i due ragazzi che maggiormente sono in voga per quanto riguarda le corse in pista le corse su strada Alessandro Turroni che è stato settimo ottavo se non mi sbaglio ai campionati italiani di corsa campestre cercherà di qualificarsi adesso a poco a novembre ci sono le selezioni per i campionati europei di cross quindi è un suo obiettivo insieme a lui c'è anche Stefano Clemente la coppia una bella coppia non è male che anche lui tenterà di fare del suo miglio per magari prendersi anche lui in una maglia della nazionale chi lo sa intanto qui siamo arrivati sulla statale abbiamo lasciato così la strada che porta Villa Taranto via Vittorio Veneto stiamo arrivando nel centro così sulla statale di Verbania e ci sono questi atleti che sono al comando ma le fasi diciamo sono ancora molto preliminari no? Sì sono ancora molto molto preliminari questi due atleti sinceramente non li conosco per cui non non ti so dare delle informazioni un po' più precise però noi stiamo spieghiamolo anche ai nostri telespettatori l'organizzazione sta attualmente preparando la lista ufficiale dei partenti per fornircela ci sono al comando questi due atleti che stanno passando per capirci di fronte tra un po' vedremo il comando provinciale dei vigili del fuoco quindi siamo su Corso Nazioni Unite siamo in centro a Verbania e abbiamo in testa questi due atleti 57 e 58 eccoli qua i vigili del fuoco che guardano facciamo sempre un grande saluto ai vigili del fuoco perché fanno un grande un grande grande lavoro due uomini che stanno per giungere alla rotonda del tribunale quindi insomma hanno fatto stanno facendo gara a te e sono due atleti che partecipano alla maratona perché vedete pettorale giallo eh sì pettorale giallo maratoneti per cui interessante interessante vedere come riusciranno a gestire la gara se sono partiti questa andatura vuol dire che il loro motore glielo permette io sinceramente pensavo di vedere davanti la gente della 33 km della mezza maratona invece ci troviamo davanti questi due maratoneti vediamo poi nel nel proseguo della nel proseguo della gara come se questa sua loro tattica che sembrerebbe azzardata paghi perché la maratona sappiamo che comincia dal 30-32esimo chilometro esatto esatto soprattutto poi per chi magari ha seguito durante c'è un imbucato in bicicletta fa niente adesso la polizia lo manderà via farà polizia però attenzione perché non è la coppia al comando c'è un atleta che appunto corre la 21 km che è questo atleta con il numero 6041 che non appena avremo la lista ufficiale dei partenti andremo a sicuramente riconoscervi pellegrinelli c'è scritto sulla maglia ma non sappiamo sinceramente se è il suo nome non dovrebbero essere le lepri questi no? credo proprio di no anche perché le lepri per correre da soli eh no la lepre non può la lepre deve correre con dietro tutte le persone che chiedono di correre a una determinata andatura insomma no no questo sta facendo la sua gara beh questo qui è mezza maratona quindi ci sta questo ci sta che possa andare via si entra in viale azzari si torna verso il lungo lago poi si girerà in via tonolli e si va appunto eh prendendo poi su nei primi chilometri ricordiamolo ancora queste sono immagini registrate che giungono dalla nostra moto i primi chilometri del eh lago maggiore eh Marathon la scorta della polizia eh stradale che dal 1946 46 scorta ogni genere di manifestazione podistica ciclistica automobilistica sulla eh sulle strade e quest'oggi c'è anche un attimo servizio degli amici delle motostaffette stream che vogliamo andare a salutare perché diciamo conosciamo bene soprattutto in ambito di gare ciclistiche che bazzichiamo spesso sono qua anche loro quest'oggi e il servizio di scorta tecnica è comunque importante anche per la polizia delle strade è fondamentale perché comunque manifestazioni di questo genere senza la loro l'operato il loro servizio non si potrebbero fare insomma poi attenzione sicuramente bisogna dire anche questo le biciclette che magari vediamo sì c'è qualche imbucato però magari tanti sono anche allenatori tecnici sì certamente ci sono quelli che gli imbucati che ci sono dappertutto vabbè e quelli che hanno avuto il pass dall'organizzazione per seguire gli allenatori per seguire i loro atleti insomma perché comunque ci sta che l'allenatore possa seguire il suo atleta per consigliarlo sulla miglior tattica di gara da fare e come gestire lo sforzo tanto il nostro immarcescibile Ivo Casorati ci porta che vogliamo ricordare sembra un super uomo ieri era impegnato nella oltre a tre del lago d'orta e oggi è qua a fare eccolo qua Ivo Casorati è dietro la nostra postazione chiaramente non possiamo staccare dalle immagini adesso cercheremo di capire chi sono gli atleti al comando della 42 km allora il numero 57 è Roman Wenger Tramoy austriaco e il numero 58 invece Christian Robin che è austriaco quindi abbiamo una coppia teutonica al comando volevo citare Robin però mi sa che è più Robin perché è austriaco mentre il 6041 adesso con calma e sangue freddo lo andiamo a cercare il corridore che è al comando con il numero 6041 è Ivan Bressanelli del Legnami Pellegrinelli che ci permette anche un calambur di parole ma insomma se si chiama così Legnami Pellegrinelli che è una società lombarda che diarrià dalla Lombardia Piazza Gramsci si scende adesso praticamente per capirci questo è il controviale un po' più in alto di dove si è data la partenza questi sono atleti che inseguono sì sono gli atleti due atleti sono tre atleti locali due che fanno la tennetta 3 Frassetti e Luca Valenti Luca Valenti che è stato anche un ex campione italiano sulla Gran Fondo in bicicletta nel 2001 è amatori 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 infatti ho fatto un salto qui sulla serie di chi è questo allora se mi parli di amatori ho vinto a Gran Fondo amatori è un ex ciclista che è passato la corsa sostanzialmente perché la corsa ci vuole anche un po' meno tempo per prepararsi rispetto a una corsa ciclistica e con ottimi ottimi risultati anche Luca Valenti che anche lui fa parte della scuderia di Gigi Corti di Senzanella e ha un personale di un'ora e tredici sulla mezza maratona e sulla maratona di due ore e trentacinque nel 2012 proprio la maratona da Arona a Verbagna in cui arrivò ottavo saluto e se non mi sbaglio il primo bianco dietro ai soliti africani e i soliti africani che però quest'oggi non ci sono allora ricordiamo la situazione per lo meno per quel che riguarda le immagini che stiamo vedendo adesso il 6041 Ivan Bressanelli che corre la mezza maratona quindi sui 21 km terminerà la propria fatica in quel distresa e al comando lo inseguono i due atleti che invece corrono la maratona con il numero 57 Roman Weger Tramoy e con il numero 58 Christian Robin sono due atleti austriaci quindi c'è anche quel briciolino di internazionalità a questa ragione di internazionalità vedremo se riusciranno poi magari anche sicuramente a darsi una mano ad aiutarsi perché 42 km sono veramente lunghi abbiamo visto passare anche un bel gruppetto di atleti dove ho visto due atleti locali che fanno la maratona uno è Stefano Luciani di Borgomanero un noto triatleta un po' pazzo che ha deciso forse ieri sera di iscriversi alla maratona e non l'ha preparata è contento lui così sappiamo che lo conosco benissimo sappiamola però è talmente se becca la giornata giusta può fare di tutto passaggio al chilometro 4 questa è sempre la situazione ricordiamo stiamo concludendo le immagini registrate dei primi 4 chilometri che abbiamo fatto rivivere ecco che vediamo anche una chi è che vediamo l'asciura una ragazza magari è un po' più difficile capire le posizioni del gentil sesso dove sicuramente è difficile dare delle informazioni un po' più dettagliate sicuramente poi per quel che riguarda la testa avremo anche i passaggi le atleti e gli atleti che sono al comando hanno comunque davanti la macchina segnatempo quindi questo sarà sicuramente molto facile la signora non corre la signora scende per i fatti suoi è andata a fare la spesa è andata a fare la spesa si è trovata sta fiumana di gente che però devo dire dà anche alla città un senso di festa un po' di colore meglio di così meglio di così a colori ne abbiamo tanti perché ci sono tante di quelle tante di quelli tanti di quei pettorali già dove diamo Gianluca Di Marino atleta che è passato in questo momento e queste sono immagini che con 47 siamo già a 47 mi sembra due minuti che è partita la gara siamo già io te l'avevo detto 47 minuti intanto abbiamo anche dietro alcuni personaggi io te l'ho detto che ti passavo via noi intanto andiamo a Ferriolo eccoci qua siamo a Ferriolo tra poco queste sono immagini che vi giungono in diretta da Ferriolo avremo il momento del passaggio della testa della corsa a Ferriolo intanto abbiamo ci dicono dalla regia abbiamo la possibilità guarda cosa abbiamo inventato di avere in diretta il direttore dell'organizzazione Paolo Tone che ci dovrebbe sentire Paolo sì buongiorno eccoci qua allora sei collegato in diretta come sta andando dove siete innanzitutto e com'è la situazione chi c'è al comando beh allora intanto scusate Ferriis Cattone ma ogni tanto devo eh stai pedalando allora siamo siamo praticamente al 14esimo tra un po' prenderò il tempo abbiamo in testa il 57 il 58 sulla gara di maratona sì invece il 6.041 sulla gara di mezzo stanno viaggiando assieme siamo sulla media di 3.30 al chilometro esatto noi ti vediamo intanto perché stanno arrivando le immagini in diretta ti vediamo al telefono tempo di gara 48.33 eccoli qua i due che sono al comando Tramoi e Robin insieme al 6.041 che è Bressanelli intanto ti vediamo se vuoi salutare sei anche in immagini in questo momento eccolo lì Paolo Tone che ci saluta stanno andando bene direi questi quattro atleti eh sì c'è qualcuno che è più staccato dietro ti dirò la verità stanno viaggiando veramente molto molto precisi credo che abbiano pianificato proprio la gara 57-58 sono esattamente a 3.30 al chilometro e sono come un orologio svizzero sinora 3.30 al chilometro orologio austriaco ecco sì Mauro Bernardini dice un orologio austriaco perché sono sono due austriaci e questo è molto carino no Paolo lo possiamo dire insieme a te poi chiaramente ti lasciamo se mai ci risentiamo più tardi non ci sono etiopi non ci sono keniani non ci sono top atleti però è una gara che ha sicuramente uno spunto di spettacolarità lo stesso livellata su tempi più alti ma sicuramente molto interessante sì sì chiaro come sai non so se l'avete già detto quest'anno per problemi economici noi abbiamo invitato gli africani che quindi fanno gara di test e loro viaggiano a 3 al chilometro perciò è un altro mondo rispetto a questo però detto questo io credo che quest'anno possiamo vedere un atleta europeo sul podio sia sul maschile che sul femminile credo e quindi insomma penso che alla fine oggi il risultato sia stato avere credo oltre 2.300 podisti sulle rive dell'Ago Maggiore questo per noi è il risultato allora intanto Paolo noi ti ringraziamo per questo appuntamento grazie a voi a dopo ci risentiamo più tardi 57-58 Roman Wenger e Christian Robin due atleti austriaci il 6.041 Ivan Bressanelli che però corre la mezza maratona ci credi che possono arrivare questi secondo te intanto vediamo altri atleti che stanno passando in quel diferiolo dove vedete la strada è divisa in due d'andata e ritorno perché poi ci sarà il giro perché la 33 km farà un giro di boa tra Stresa e Baveno se non mi sbaglio esatto e niente con il pettorale ciclamino tra cui vediamo Ennio Frassetti che presumibilmente è il primo della 33 intanto vediamo anche Pietro Colnaghi 56 che è un atleta che ha tempi tempi interessanti Colnaghi è un buon corridore Pietro Colnaghi è stato mio abbiamo battagliato paracchie gare insieme si lo conosco benissimo il cosiddetto lo chiamiamo in gergo il barbone si è visto perché lo chiamate il barbone diciamo che a 3.30 al chilometro corre una maratona la proiezione è sotto le 2.30 più o meno intorno se non mi sbaglio 2.27 2.28 che è comunque un tempo di tutto rispetto insomma lo ripetiamo ancora non sono tempi da keniani o etiopi però sono tempi da buon tempo europeo diciamo che come ha detto giustamente Paolo oramai keniani o etiopi fanno un altro sport rispetto rispetto a un atleta bianco ci sono veramente pochissimi bianchi che oramai riescono a contrastarli giusto poche settimane fa c'è stato a Berlino il record del mondo di maratona la miglior prestazione che 2 ore 2 minuti e 57 secondi che è stratosferico stratosferico perché vuol dire correre una media una maratona a 2 minuti e 55 al chilometro per cui cioè veramente oramai sono due sport diversi lo fanno un altro sport comunque posso assicurare che anche a 3 a 30 al chilometro una maratona sempre su tempi veramente perché tu hai detto il record della Lago Maggiore Marathon è di Tola Di Baba 2,13,49 quindi insomma sono andati un pochino più alti andando altri atleti che stanno continuando a passare in quel di Ferriolo perché si fosse messo in ascolto in visione solamente in questo momento telecronica diretta della Lago Maggiore Marathon immagini che vi giungono in diretta in esclusiva live dal chilometro 14 in quel di Ferriolo dove sono passati al comando tre atleti il numero 57 austriaco Roman Wenger il numero 58 Christian Robin sono due atleti austriaci e il 6041 Ivan Bressanelli che però terminerà la sua gara a stresa perché è in gara sulla mezza maratona pettorale arancio questo giusto per ricapitolare un attimino la situazione vediamo altri passaggi di atleti che presumibilmente sono impegnati nella maratona ma speriamo facciamo anche un po' il tifo per gli atleti italiani speriamo che si possano inserire nella vittoria per cercare di contrastare questi due austriaci quindi 14 km non è niente in maratona per cui aspettiamo come sarà l'evoluzione come ho ripetuto la maratona comincia poi dal 30 al 32esimo chilometro esatto anche se Mauro mi sembra Mauri Mauretto mi sembra di capire che i due stiano tenendo un'andatura molto interessante non mi sembrano casuali di davanti sicuramente sicuramente si vede che c'è un feeling un accordo tra loro due probabilmente l'avranno preparata anche insieme sembrerebbero molto decisi e molto sicuri di quello che fanno però la maratona è una gara a sé è una gara un po' atipica per cui ti sembra di star benissimo e due o tre chilometri dopo ti può venire la crisi che ti porta anche al ritiro per cui vedremo vedremo peraltro peraltro Christian Robin è un atleta del 1983 della OLL di Villac quindi siamo proprio al confine con l'Italia con Tolmezzo mentre Tramoy Wenger è del 74 cosa potrebbe voler dire questo che sia uno magari la lepre dell'altro che sia uno che aiuta l'altro mi viene in mente l'anno che la vinse Bennazuz che ebbe il fratello Kadur che lo tirò per parecchi chilometri poi si fece da parte può esserci un discorso del genere ma ci può sicuramente ci può stare un discorso di questo tempo l'esperienza del come si chiama Wenger che è del 74 quindi è un quarantenne può essere magari da supporto da lancio per il compagno di squadra un po' più giovane potrebbe essere potrebbe essere stiamo cercando di entrare magari anche nei meandri della corsa intanto ancora immagini che vi giungono sempre dal chilometro 14 vedete il cartello alla destra del vostro teleschermo altri atleti che vengono seguiti in questo caso sono 138 139 140 che andiamo subito a riconoscere 138 Jean-Claude Perron 139 Omar Luca Morea 140 Alessandro Sacco il primo è austano non è francese quindi è italiano giustamente sai loro hanno il nome francesizzato però sicuramente si tratta di gente che sventola il tricolore come ti sembrano queste andature chiaramente siamo già sui livelli di gente tra virgolette staccata però è comunque una sfida importante perché ci sono tanti atleti che in gara cercano magari di battere il loro personale beh certamente poi soprattutto la maratona è poi anche una sfida contro se stessi perché cioè riuscire a portare a termine una una gara di questo tipo soprattutto per la gente diciamo che corre un po' più nelle retrovie che sono tra virgolette degli amatori è più una sfida con se stessi per cui si guarda magari meno la posizione magari negli atleti di un certo livello magari anche se magari fanno qualche secondo meno così però cercano magari la battaglia uomo più su uomo invece nel discorso del gente che va un po' più lento e magari anche più un discorso per se stesso perché comunque è un'impresa comunque finire una gara di questo tipo ricordiamo queste sono immagini che vi giungono in diretta in questo momento il passaggio da Ferriolo del Lago Maggiore Marathon tre uomini al comando come si dice numero 57 Roman Wenger numero 58 Christian Robin sono due austriaci numero 6041 Ivan Bressanelli primo della mezza maratona quindi lui terminerà il proprio la propria fatica in quella distresa poi avremo modo anche di entrare maggiormente in possibilità di avere dei commenti che potranno arrivarci live delle interviste che potranno arrivarci live dagli speaker della manifestazione che poi sono collegati anche con il nostro segnale quindi avremo Davide D'Acco o Ivo Casorati qui in quella distresa se forma un capanello di gente dietro di noi che guarda la televisione dicevamo Ivo Casorati che ci permetterà insieme a Davide D'Acco di avere le dirette e avremo Alberto Pizzi in quel distresa quindi avremo modo anche di andare a sentire direttamente live quelli che possono essere i protagonisti salutano gli atleti guarda quanti sono adesso arriva la Fiumana esatto qui si può riconoscere Alessandro Colombo e Claudia Gelsomino che a Gelsomino è stata se non mi sbaglio due anni fa campione l'anno scorso ha vinto il titolo italiano femminile di maratona sarà impegnata a New York Colombo un'altra atleta della zona che sta rientrando dopo un infortunio non hai mai fatto la New York tu? no dicono che è un'esperienza indimenticabile credo proprio che partecipare a delle maratone tipo New York Parigi Berlino che corri già qua è uno spettacolo con 2000 partenti figuriamoci queste manifestazioni che fanno 40-50 mila partenti la partenza sul ponte il passaggio sul ponte è molto molto spettacolare qui si corre vedete che è stato anche detto dall'organizzazione quando ho veduto una telecamera salutate a onor del vero va detto però è sempre comunque bello vedere che adesso la fatica chiaramente si fa sentire ma c'è gente che saluta un pettorale ciclamino un atleta della 33 km che ricordiamo vivrà il proprio giro di boa al momento del ritorno quindi quando ci sarà il passaggio qui a Ferriolo degli atleti che rientreranno avremo modo di capire anche chi c'è in testa al 33 km ricordiamo che le gare in programma quest'oggi sono chiaramente la maratona di 42 km e qualcosa tra virgolette che parte da Verbania e arriva a Verbania la 33 km partenza da Verbania giro di boa tra Baveno e Stresa e arrivo in quel di Verbania la 21 km che termina Stresa e poi c'è la staffetta con il pettorale verde un atleta che corre da Verbania a Stresa a 21 km il secondo staffettista si toccano da Stresa a Verbania e si fanno gli altri 21 km 21 più 21 cosa fa? perfetto allora siamo matematicamente dentro e 195 perché l'abbiamo detto la distanza ufficiale da Sparta ad Atene storicamente corsa dal messaggero Filippide era di 42 km e 195 metri l'ho fatta la strada da ragazzino me la ricordo l'uscita scolastica però non ho cronometrato quindi non so se è tutto vero o meno dicono di no e dicono che c'è qualcosa in più qualcosa in meno però la leggenda la leggenda del messaggero Filippide vuole poi tra l'altro non era preparato perché arrivato da Atene è morto quindi insomma però il suo compito l'aveva fatto il suo compito l'aveva fatto anche bene era felice di aver annunciato la vittoria degli Atenesi sugli Spartani quindi qua siamo veramente a raccontare cose fuori dal mondo sempre di più la gente che c'è dietro che c'è dietro di noi ma finché non ci danno fastidio li teniamo qua allora Mauro Mauro entriamo torniamo a parlare mentre vediamo ancora i passaggi al chilometro numero 14 di gara che arriva proprio la fiumana di gente la vediamo questo poi veramente lo spettacolo poi della maratona insomma quando si vede una reale tutta questa tutta questa gente insomma questa gente che comunque anche se lo fa a livello amatoriale l'abbiamo detto in precedenza lo ripetiamo adesso una certa preparazione la deve comunque avere perché sennò diventa diventa obiettivamente difficile per forza sì sì per forza una maratona una 10 chilometri la si può ancora improvvisare una mezza maratona o una maratona devi avere una preparazione per una preparazione per cui insomma chilometri le devi fare insomma diciamo che diciamo che nella preparazione di una maratona devi devi arrivare a fare nel tuo allenamento almeno tre uscite da 30 a 35 chilometri per poter essere sicuro di affrontare questa questa distanza sì devi affrontare questa distanza intanto veramente guarda quanti sono io li chiamo atleti perché poi alla fine sono tutti atleti sono tutti atleti e meritano davvero gli applausi dal primo all'ultimo perché si dice che quello che arriva ultimo poi fa più fatica del 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 primo e quindi insomma vanno vanno veramente applauditi tutti questi atleti secondo te la maratona in quanto possono chiuderla beh adesso così venendola così sembra che stanno correndo questa gente qui è gente che probabilmente corre intorno ai dai 4 minuti ai 30 al chilometro ai 5 quindi quindi che ne so saranno intorno saranno intorno alle tre ore e mezza insomma più o meno sì diciamo che hanno un'oretta in più rispetto a quello che dovrebbero fare i top atleti di giornata di giornata quindi insomma salutano è bello è bello vedere ma poi qua l'importante poi è divertirsi certo certo questo tempo come ho detto prima il tempo per loro non lo guarderanno neanche questo è veramente divertimento è importante completare tutto il percorso di maratona e sentirsi anche loro dei piccoli i piccoli campioni esatto parliamo parliamo di un'altra cosa entriamo chiaramente noi sulle immagini abbiamo di portarvi intanto vediamo ancora delle immagini che si riferiscono alla partenza immagini che così tra poco andremo a commentare andiamo a così cercare di capire un pochino i materiali ecco alcuni pacemaker che stanno passando i materiali cosa si deve avere come si deve correre cosa conviene indossare per correre 42 km 195 o anche solo 33 21 chiaramente allora per quanto riguarda le scarpe le scarpe adatte è la cosa più importante che un podista deve avere perché avere le scarpe giuste le scarpe appropriate per il proprio peso per la propria struttura per il proprio appoggio del piede avere le scarpe le scarpe giuste è quello che ti previene anche molti infortuni sostanzialmente per cui sulle scarpe bisogna veramente spendere anche qualcosina in più diciamolo così e però fare l'investimento giusto poi su queste guarda che ci sono anche i grandi puffi guarda ecco sì ne abbiamo visti prima in partenza il grande puffo con l'altro puffo questo è divertimento puro è bello bello sì sì abbiamo visto di tutti i colori abbiamo visto di quelle cose spettacolari in passato ci sono i puffi un po' più alti dei puffi normali che corrono la maratona ma torniamo se c'è anche la puffetta ci sarà anche la puffetta magari sta ancora meglio dietro alla puffetta le maglie della genzianella che sono chiaramente molto note anche della cadese torniamo sul discorso dei materiali hai parlato delle scarpe le scarpe adatte ma non solo pantaloncini maglietta certamente 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 adesso ci sono in commercio un'infinità di indumenti però chiaramente le scarpe secondo me voglio battere questo questo punto le scarpe sono la parte più fondamentale poi chiaramente nelle giornate di pioggia di umidità piuttosto che il sole ci sono oramai tutti gli indumenti più più consoni per ogni evento atmosferico insomma ci sono molte magliette tecniche traspiranti che fanno sì che il sudore non ti rimanga attaccato alla pelle però non è diciamo che come vestiario non è una cosa proprio fondamentale ecco le scarpe sì le scarpe ti possono le scarpe sbagliate ti possono portare ad un infortunio o addirittura magari delle vesciche che ti sono fastidose ti possono anche non far finire la cara insomma per un po' di vista sono sicuramente sicuramente una cosa una cosa fastidiosa e poi infortuni muscolari infortuni muscolari sì 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 per cui spendere qualche qualche soldo in più qualche affidarsi a del personale competente che ti vende le scarpe è una cosa il mio consiglio da un atleta diciamo di un buon livello lo dico io comunque un po' di esperienza un po' di chilometri un po' di chilometri le ho fatte facevo un rapido calcolo i giorni scorsi penso che avrò fatto più di centomila chilometri fino ad adesso per cui ogni gara te lo segni sulla manina 1 2 3 4 no vabbè ogni annenamento ogni settimana ogni mese si fa si fa il calcolo e diciamo che oramai sono 25 anni che ti corri che calpesto strade montagne roba del genere per cui per cui questo intanto intanto ecco chiaramente noi ci stiamo commentando sopra però le immagini sono veramente molto spettacolari guardate quanti sono ricordiamo andiamo ancora a dare i numeri ufficiali di questa Lago Maggiore Marathon 609 partenti per la maratona di 42 chilometri e 195 metri 33 chilometri la gareggiano in 642 la mezza maratona in 1.600 e 74 staffettisti sono partiti in 2.331 podisti quindi insomma numeri numeri importanti numeri importanti che secondo me possono solamente possono solamente crescere visto la visto la bellezza del percorso che tocca questa gara si la bellezza del percorso qui si vede che l'andatura già è differente quasi tratta veramente di spettacolo però uno non immagina una gara come questa non immagina magari di vedere 2000 e più persone dopo i primi che vanno ad andatura più importante il bello della maratona è questo un po' come quando si corre il rally delle valli ossolane si ci sono le prime 10 macchine che lottano per vincere poi però ne hai tante altre che non corrono per vincere però il bello il bello la quantità di una manifestazione del genere è questa qui e queste sono immagini bellissime immagini bellissime e rendono anche comunque orgogliosi gli organizzatori perché comunque se c'è una risposta così importante vuol dire che il loro lavoro è fatto bene quindi io vorrei rinnovare comunque a Paolo Ottone i miei complimenti per quello che sta mettendo sta mettendo in atto con la mezza maratona e con la maratona è un impegno lungo difficile però adesso si cominciano a avere dei buoni risultati dei buoni riscontri per cui guardiamo qua che fiumano le gente che sta passando da Ferriolo tutto molto bello mi avrebbe da dire tutto molto bello e io mi ricordo che Paolo Ottone direttamente al sottoscritto disse proviamo a mettere in piedi dopo i successi delle prime edizioni della Lago Maggiore Half Marathon quindi la mezza maratona che peraltro ti preannuncio potrebbe cambiare data rimanere sempre in primavera ma cambiare data così è stato un purparletto dalla sottoscritta Ottone mi ricordo che Ottone disse proviamo a mettere in piedi questa maratona e come al solito no impossibile non attaccherà mai ci mancherebbe altro ma va ma cosa ditte ma cosa fate guarda qua cosa abbiamo dopo 4 anni quasi 2500 partenti vuol dire che tutto sommato il giocattolino piace comincia si il giocattolino comincia a funzionare e secondo me col fatto che ci sono anche abbiamo detto forse 400 olandesi si 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 ci sono tanti tanti olandesi ma adesso ci sono gli austriaci davanti no però nel senso di come forse l'Olanda è la nazione che più un 400 più rappresentata al di fuori dell'italia per cui hanno fatto un charter altro che uno due o tre sono arrivati qua con gli aerei o magari sono tutti quelli dei campeggi che ci sono qua in giro che hanno deciso di fermarsi sarebbe la sarebbe la sublimazione del discorso sport e turismo se fossero quelli dei campeggi che hanno corso la maratona l'assessore al turismo del comune farebbe 20 volte 42 km esultante perché vorrebbe dire che abbiamo indovinato i pacers eccoli qua i pacers i pacemakers sinceramente non ti posso dire che velocità posso è scritto sul palloncino il tempo dichiarato non siamo riusciti a leggerlo però magari per chi si fosse messo in ascolti bisogna solamente adesso se vuoi ricordare ancora cosa sono i pacers o pacemakers di modo che poi così facciamo entrare ancora in ambito maratona i nostri i nostri teleascoltatori diciamo che i pacemakers sono queste persone che hanno la funzione di dare un passo più regolare possibile a una determinata velocità per far sì che tutte le persone che hanno in mente di correre la mezza maratona o la maratona in un determinato modo possono seguire loro e non stare concentrarsi a guardare l'orologio ogni 500 metri ogni chilometro devono soltanto seguire come ad occhi chiusi pacemaker colui che segna l'andatura colui che segna l'andatura to make fare il pace è proprio un gergo così inglese americano colui che segna l'andatura e come abbiamo detto in precedenza se un pacemaker con un atleta o meglio se un atleta con pacemaker dichiara di finire la maratona in un tempo che ne so di tre ore non ti preoccupare che a 2.59.58 taglia il traguardo ti sei soppiato il naso non sembra ma comunque è difficile il ruolo del pace molto molto difficilissimo è difficilissimo perché devi io ho assistito anche a diverse diverse manifestazioni diverse maratone con dei pacemaker che veramente inaffidabili veramente inaffidabili e quello vuol dire rovinare poi la gara degli attenti tu non hai mai avuto bisogno del pace io no beh no io no anche perché mi è sempre piaciuto comunque gestire la mia gara da solo abbiamo in diretta Paolo Ottone Paolo ci sei? si si mi sento bene mi sento benissimo raccontaci queste sue immagini di Astresa beh siamo per un po' credo che mi vedresti in camera sei bellissimo ok siamo grazie di complimento sicura io non sarei proprio così d'accordo con Gianluca però va bene andiamo con la canna che noi vediamo siamo alla mezza ormai ti dicevo mancano 200 metri ci sono i due maratoneti si 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 dietro di loro vedrai il primo mezzo maratonete che si è staccato un 4 km indietro e facciamo adesso la mezza sempre sempre ti dicevo a 3.30 al km e quindi stanno andando ancora bene 2.30 perdona 2.30 al km scusa Paolo una domanda i due atleti si stanno dando una mano o ce n'è uno che che fa l'andatura secondo me c'è quel ragazzo davanti il più piccolino non ricordo sul 57 58 il 57 tra moi che è del 74 quindi il discorso che facevamo prima tirando la gara l'altro esatto con Gianluca c'era questa questa disquisizione io gli ho provato a chiedere ti dicevo Mauro in inglese ma non mi hanno capito ma secondo me sì perché non ha tirato un metro o l'altro noi Paolo abbiamo fatto un discorso del genere in precedenza tra moi che è il 57 è un atleta del 74 Robine è un atleta del 83 intanto ha vinto la mezza maratona Ivan Bressanelli 6041 quindi applausi primo vincitore di giornata dicevamo l'atleta classe 74 evidentemente sta lavorando tirando per l'atleta classe 73 direi che diciamo che diciamo che è un po' come il ciclismo no? sentiamo sentiamo la cronaca pensavo nel personale di due domeniche pronto mi sentite ancora? abbiamo stiamo ascoltando il vincitore bellissimo ci vediamo per la maratona l'anno prossimo senti ti presenti mentre aspettiamo il secondo e non arriva ancora ti presenti in due parole ci dici chi è Ivan Bressanelli vengo dalla Valle Camonica provincia di Brescia SM45 da quest'anno quindi 45 anni contento dai Ivan contento perché l'anno prossimo ci sarà ancora complimenti grazie ancora intanto occhi puntati giù in fondo al rettilineo finale questo era Ivan Bressanelli vincitore della mezza maratona alla 21 km sarebbe interessante sapere il tempo del vincitore però occhio e croce sembrerebbe intorno all'ora da l'ora e 10 all'ora e 13 sì 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 non so se abbiamo ancora Paolo Stone però intanto mi pare che già vediamo le staffette della polizia che stanno arrivando sul percorso inverso quindi a breve dovremmo magari avere il primo della 33 km speriamo che sia il nostro Ennio Frassetti Ennio Frassetti potrebbe essere lui ricordiamo giro di boa della 33 km che è situato tra Baveno e Stresa quindi stanno andando perché siamo ti sto portando via stanno andando forte perché siamo già praticamente a metà gara hai visto come vola tempo vola solo in gara io che non mi passava mai sto tempo è perché eri scarso sto scherzando ci mancherebbe altro sai che ti voglio bene Mauretto ho parlato molto in alto per averti qui oggi tanto eccoli qua che stanno tornando dietro questi dovrebbero essere questo è col naghi il barba sì questo è il barbone no? col barbone sì siamo sempre a Stresa sì queste sono immagini che come ci segnalano i nostri registi ci giungono da Stresa chiaramente chilometro 25 che si ha col naghi dunque in testa alla alla mezza alla perdono alla 33 però non è la color ciclamino mi sembra infatti infatti forse farà la maratona perché col naghi è uno che il numero è il 56 Pietro col naghi che è iscritto sulla maratona quindi assolutamente non può essere lui a guidare la gara poi conoscendo col naghi che è un ragazzo che adesso si si sta cimentando nelle ultra maratone questo sarà soltanto un allenamento anche perché questo è ancora il tratto d'andata stanno ancora viaggiando verso il il giro di Boa immagini che vi giungono in diretta da Stresa siamo live con la Lago Maggiore Marathon questo è un altro atleta che va a concludere la mezza vediamo se avremo modo di sentirlo al microfono del nostro Alberto Pizzi dovrebbe essere il secondo ricordiamo la mezza maratona vinta da Ivan Bressanelli Bresciano della Valcamonica l'abbiamo sentito in precedenza tu hai spesso battagliato con i Bresciani tanto si avvicina sì 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 Bresciani c'è una Valcamonica poi c'è una tradizione di corridori se le siamo dati di santa ragione soprattutto in corso in montagna corso in montagna tu hai fatto tanti anni anche l'atleta ed ecco qua il mio compagno di società Giovanni Latella ecco è classico fare l'aeroplanino l'aeroplanino Giovanni Latella che dovrebbe essere il terzo il terzo sembrarebbe credo proprio di sì con la sua moglie ecco stavo dicendo la fotografa presumevo moglie o compagna sicuramente sentiamo sentiamo Giovanni gran bella gara stamattina sì gran bella gara finalmente sono tornato sotto l'ora 18 dopo un paio d'anni però bello qui ho il record su questa gara hai corso molto da solo tra l'altro a verità un paio di amici del Curotti mi hanno aiutato un pezzo Legno e Frassetti grande e Luca Valenti poi dopo siamo andati ognuno vado a loro fanno a 33 ah benissimo bene Giovanni complimenti bravo intanto salutiamo sempre gli staffetti ecco qui il commento del tuo compagno è bello non provi un po' di invidia non vorresti essere lì tanto questi sono gli staffettisti che si preparano Michela Piana Michela Piana che fa coppia oggi oggi fa coppia con Alfredo Fasolo beh comunque non solo oggi anche la Valla Entrasca diciamo che Piana e Fasolo hanno vinto la coppia mista alla staffetta della Valla Entrasca quest'anno arrivano altri atleti questo è l'atleta numero questo è Macellaro credo Rocco Macellaro Rocco Macellaro questi come detto sono gli staffettisti che aspettano l'arrivo del proprio compagno per dargli il tocco di mano e partire esattamente 21 chilometri il primo staffettista da Verbani a Stresa 21 chilometri il secondo staffettista da Stresa fino al portale che è qui a una centinaia di metri dalla nostra dalla nostra postazione tu mezzo ai maratoni ne hai fatte tante la vedi più come una liberazione quando arrivi al traguardo vabbè no dai no vabbè nell'abrilezione no fai quello che ti piace alla fine non è che certamente è stancante quando arrivi alla fine però guarda quando sei così sei la soddisfazione comunque è immisurabile allora torniamo intanto attenzione perché vediamo le staffette della polizia ecco attenzione attenzione qui siamo a Ferriolo sta arrivando il primo perché quella è la macchina segnatempo sta arrivando il primo della 33 km quindi concentrati amici a seguire il passaggio tempo di gara 1 ora 20 e 20 eccoli qua i primi ecco Egno fra 7 sì come era forse evidente logico aspettarsi meno male meno male che sia così vediamo Egno che che mi sembra che stia ancora avendo un buon passo non sembra ancora che denoti delle difficoltà ci sono applausi intanto per Egno Frassetti il pettorale ciclamino della 33 chilometri noi adesso vogliamo andare anche a cercare il numero di gara del buon Egno Frassetti guarda gli applausi bello questo bello bello gli applausi per l'atleta che sta passando appunto sul lato opposto che ha il comando 1 ora 20 e 51 di gara che è lo stesso tempo che avremo poi qui sul traguardo momento del passaggio Egno Frassetti dunque in testa andiamo a ricapitolare Egno Frassetti in testa alla 33 chilometri per quel che riguarda la gara di maratona sui 42 195 Roman Werger e Christian Robin io mi aspetto che a un certo punto ci sia l'attacco di Robin che saluta l'altro dovremmo avere un contributo probabilmente dal nostro Alberto Pizzi eccolo qua vai Alberto come è andata la gara percorso abbastanza duretto insomma parecchi cambi di ritmo niente ho corso in un'ora 19 e niente sono soddisfatto adesso vediamo se il mio compagno porterà termine la fatica beh grande vantaggio sulla seconda staffetta si non so se è già arrivata la seconda eccoli altri concorrenti invece che stanno arrivando allora noi torniamo in cronaca ecco qua sta bevendo un gel giusto questo è luca valenti altro partecipante uno dei famosi curottini curottini cosa vuol dire tu io curotti conosco lo stadio di domodossola esatto perché esattamente questo qui fa parte del gruppo storico dei curottini siamo siamo perché io faccio parte anch'io di una trentina di atleti tra amatori e semi professionisti come può essere Egno e quindi niente loro due sono in testa a questa gara sembrerebbe che la vittoria della 33 sia almeno appannaggio locale e vediamo poi ancora tantissima gente che sta passando per la maratona intanto intanto mauretto il solertissimo ivo casorati l'ha detto stampa che ogni manifestazione vorrebbe avere ci ha portato l'arrivo ufficioso della mezza i van bressanelli un'ora 14 e 0 4 secondo claus mariotti della cogne 4061 quindi vale d'aosta un'ora 17 07 bella sverniciata terzo giovanni latella dell'avi sossolana e tu potresti sventolare la bandiera ma abbiamo è al quarto posto Rocco Macellaro Paolo Ottone in diretta sì eccomi ancora siamo al chilometro 24 stiamo arrivando adesso gli attenti stanno transitando tra 20 metri saranno lì abbiamo fatto un chilometro ecco abbiamo qualche problema di ricezione qualche secondo sì 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 e ti stavo dicendo quindi abbiamo fatto quel chilometro più lento adesso abbiamo fatto un Dino un 333 appena prima del traguardo qua di Stresa penso che siamo lì saremo lì a Stresa in un 400 metri scarsi 300 quindi tra poco tra poco avremo anche le nostre telecamere che ti vedranno sono sempre i due austriaci a far gara di testa sempre sempre loro c'è sempre il non ricordo più il pettorale il più piccolino quando lo vedo 57 che è il sta tirando sta facendo il lavoro ma esatto mi sembra un po' più oramai parese che stia lavorando credo che lo tiri attorno al 35 credo io secondo me scusa Paolo che vuole un parere personale prego chi è che il primo degli inseguitori di questa coppia se non ci sbagliamo deve essere Colnaghi Pietro Colnaghi a quanto sarà sarà dietro almeno un chilometro un chilometro quindi c'è un discatto bello importante assolutamente adesso dovreste vederci in camera non so se sono girati non ancora noi abbiamo chiaramente le immagini in questo momento grazie Paolo intanto abbiamo ancora io io vi lascio sì sì poi ci risentiamo sicuramente nel corso nel corso dei chilometri le immagini sono a Stresa Colnaghi che a mio modo di vedere può puntare tranquillamente al podio perché non lo so mica se li vanno a prendere con un chilometro di distacco un chilometro un chilometro di distanza eccoli qua i passaggi intanto dei primi eccoli qua eccoli qua Wenger e Robin ormai sembra proprio chiaro che sì sì evidentissimo sta facendo un servizio da gregariato ci facciamo i complimenti perché abbiamo azzeccato in pieno la tattica di gara dei due atleti che tra l'altro proviamo anche a dare sei numeri oggi magari vinciamo che il Superanalotto eh volendo buttiamola lì facciamo metà più duro i due battistrada sono in testa sono Roman Wenger e Christian Robin sono entrambi di Villach quindi fanno parte dello stato austriaco queste sono immagini che tornano intanto da Ferriolo in quel di Ferriolo al terzo posto c'è Colnaghi tu da atleta secondo me fanno fatica ad andare a prenderli o perlomeno ad andare a prenderli perché poi l'uomo dedicato a finalizzare è il buon Christian Robin un chilometro di vantaggio non è poco un chilometro di vantaggio e poi non ha tirato un metro per cui ha risparmiato anche parecchie energie che dal trentesimo in poi le verranno molto molto utili invece Colnaghi l'abbiamo visto che sta correndo da solo deve fare il ritmo da solo e un chilometro siamo già intorno dai tre ai quattro minuti di distacco ci deve proprio essere un crollo da parte dell'atleta che è in testa che in questo momento sembra proprio che niente ci faccia pensare che può succedere questo può succedere noi chiaramente appunto non vogliamo fare il gufo il barbagianni e tutti gli uccelli notturni che conosciamo però è anche possibile che succeda sì sì come dicevo prima la maratona è una gara a sé puoi anche essere preparato bene che però se quel giorno ti svegli che c'è qualcosa che non va i tuoi bioritmi non sono al top una piccola crisi può diventare una cosa deleteria per questa gara io ho visto gente ascoltiamo prima volta che aveva Stresa prima volta come ti aspettavi? bellissima brava benissimo è la seconda concorrente classificare ragazzi francamente il numero non l'abbiamo visto però prendiamo prendiamo in pieno ecco questo è un altro concorrente della 33 che conosco benissimo Enrico Di Lullo com'è? anche lui oggi sembrerebbe un pochino affaticato devo essere sincero stavo dicendo anch'io che non mi sembra questa bella sì 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 magari ha avuto i bioritmi scombussolati dopo l'arrivo il passaggio ancora l'arrivo di Stresa la conclusione della mezza e gli staffettisti che sono prossimi a darsi il cambio e a partire questo petrolale ciclamino quindi sono atleti in gara questi sono tutti per la 33 km passaggio di Ferriolo in testa la 33 km andiamo a ricapitolarlo c'è Ennio Frassetti mi piace sono felice perché un bel atleta un bravo ragazzo e niente si merita il successo allora sempre in diretta dalla Lago Maggiore Marathon quarta edizione noi ci lasciamo per un istante di pubblicità non andate via torneremo tra poco in diretta su Viceo Azzurra TV a tra poco 19 ottobre 2014 quarta Sportway Lago Maggiore Marathon 42 km di emozioni tra Berbania e Stresa gara fodistica internazionale su diverse distanze Sport Expo e corse non competitive sul lungo lago di Berbania per passare un pomeriggio di festa e sostenere i nostri progetti benefici diventa protagonista anche tu dell'evento sportivo più importante della provincia info su www.lagomaggioremarathon.it di pallanza dove stiamo per trasmettervi in telecronaca diretta integrale ed esclusiva la quarta edizione della Lago Maggiore Marathon evento organizzato dalla Sport & Promotion di Paolo Ottone non sarò solo chiaramente eccoci qua per attiva la Lago Maggiore Marathon per fare la Lago misura sono arrivati e eccoci in diretta immagini che vi giungono da stresa io non posso non salutare un collega che adesso è diventato podista al cobra, Piero Pratesi e che sta soffrendo perché voleva esserci l'anno prossimo, Piero devi correre almeno la mezza certamente io è da parecchio che lo vedo impegnato nelle manifestazioni sportive, a oggi non c'è? no, non c'è, si vede che ha voluto prepararla meglio, poi lui è un agonista tanto guarda, questo è Nicolo Cardana che è staffettista rallysta, staffettista, lui fa di tutto ed è compagno diciamo di una nostra collega a cui mando un bacione, Marianna Morandi con cui abbiamo fatto tante belle cose anche in in televisione allora, vogliamo un attimino mentre vediamo delle immagini vedo anche avvicinarsi il nostro Solerte Ivo Casorati ricordare quello che succede oggi perché poi non sarà solamente il fatto agonistico di questa mattina ma avremo anche la possibilità di vedere i passaggi e le gare non competitive questo pomeriggio alle 14.45 la Lago Maggiore Bambini Run di 500 metri e la Lago Maggiore Mini Marathon alle 15 di 2 chilometri partecipando si aiuteranno con i proventi raccolti per queste manifestazioni si aiuteranno la Fondazione per la Ricerca contro la Fibrosi Cistica l'Associazione Veronica Argento Onlus la AISLA l'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica Onlus Dottor Clown VCO Amici del Cuore VCO Progetto Rebecca Fondazione Tonoli Aiutare i Bambini Abio Associazione Bambini in Ospedale e la Scuola Materna Don Bosco di Villa Dossola a te l'onore di declamare l'1-2-3 della mezza femminile beh la mezza femminile è molto internazionale abbiamo una vincitrice svizzera Vassalli Rossi Rosalba con il tempo di 1 ora 24.03 che significa andare a 4 minuti al chilometro che è già un buon andare secondo posto Mazzei Emanuela il team Otecicomo in 1 ora 27.01 e terza una ragazza svedese che è Lindquist Karolin Karolin Lindquist 1 ora 27.28 Team Black King Sweden bello bello e vedi mancando per carità ripeto con tutto il più grande rispetto che esiste per gli atleti mancando l'atleta africano che monopolizza è molto aperto è molto più aperto certo 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 diciamo che anche qui come nella gara maschile il primo ha fatto abbastanza un bel vuoto e c'è stata una bella battaglia tra la seconda e la terza quindi fino all'ultimo chilometro 1.27.01 1.27.28 sono tempi molto molto interessanti quindi abbiamo intanto adesso l'attesa del passaggio della testa della corsa Roman Wenger e Christian Robin ma prima dovrà passarci chiaramente Ennio Frassetti al comando del 33 al punto immagini di Ferriolo queste invece sono delle ragazze in gara ricapitoliamo andiamo a ricapitolare i vincitori della mezza maratona 21 chilometri partenza da Verbani arriva a Stresa Ivan Bressanelli della Legnami Pellegrinelli bello anche la rima 1.14.04 davanti a Klaus Mariotti della Cogne 4061 1.17.07 Giovanni Latella tuo compagno di squadra 1.17.48 Rocco Macellaro della Cadese e qui saranno contenti gli amici della Cadese i fratelli Trapani i fratelli Trapani 1.18.58 per quel che riguarda il femminile lo hai appena detto prima Rosalba Vassali Rossi elvetica con il tempo di 1.24.03 poi la Mazzei 1.27.01 e la Caroline Lindquist la svedese 1.27.28 il tempo di percorrenza della mezza maratona per l'atleta svedese altri atleti che finiscono intanto belli stremati belli cotti si potrebbe dire così si belli anche la fotografa diciamo battutina un po' di colore in più un po' di colore noi lo diciamo sempre dal punto di vista paesaggistico ci mancherebbe ci mancherebbe altro intanto altri atleti che stanno correndo la maratona in questo caso e qua comincia il duro il numero 138 è Jean-Claude Perron della Polisportiva Sant'Orso Osta ed è evidentemente un atleta che arriva dalla Vallée queste sono le medaglie bellissime poi le chiederemo anche noi come finisher perché se abbiamo fatto anche noi siamo partiti noi siamo partiti e arriviamo con il primo quindi vogliamo la medaglia e con l'ultimo e con l'ultimo noi vogliamo assolutamente assolutamente la medaglia anche per una questione di collezione buttiamola lì così quante medaglie hai a casa Mauretto? medaglie poca roba no no ne ho ne ho una bella collezione non c'è per dire i pacers salti pacemaker con il palloncino che serve appunto per riconoscerli viene legato alla cintura al palloncino e questi atleti se dichiarano di correre in un certo tempo finiscono la maratona in un certo tempo intanto voi non potete vedere ma sul rettilino d'arrivo si stanno facendo le prove per quando sarà tirata la fettuccia lasciamoci ancora per un istante di pubblicità Gianluca Trentini Mauretto Bernardini Lago Maggiore Marathon a tra poco non andate via perché siamo praticamente a metà gara 19 ottobre 2014 Quarta Sportway Lago Maggiore Marathon 42 km di emozioni tra Berbani e Estresa gara fodistica internazionale su diverse distanze Sport Expo e corse non competitive sul lungo lago di Berbani per passare un pomeriggio di festa e sostenere i nostri progetti benefici diventa protagonista anche tu dell'evento sportivo più importante della provincia info su www.lagomaggioremarathon.it diretta di pallanza dove stiamo per trasmettervi in telecronaca diretta integrale ed esclusiva la quarta edizione della Lago Maggiore Marathon evento organizzato dalla Sport & Promotion di Paolo Ottone non sarò solo chiaramente eccoci qua per e torniamo torniamo in diretta con le immagini del rettilineo d'arrivo di piazza Garibaldi in quelle di Verbania Lago Maggiore Marathon andiamo a ricapitolare un pochino la situazione per quel che sta ancora succedendo in corsa due atleti al comando per quel che riguarda la gara di maratona sui 42 km e 195 metri il numero 57 Roman Wenger è il numero 58 Cristiano Robin la tattica è perfetta Wenger sta facendo da lepre sta funzionando sembrerebbe che stia funzionando a Robin per quel che riguarda invece la 33 km che è quella che ha svoltato tra Baveno e Stresa e Neo Frassetti Ossolano la sta facendo da padrone la sta facendo da più che padrone penso che non dovrebbe mancare molto a vederlo arrivare qua sul Lungolago dobbiamo vedere di passare da Ferriolo ancora no no Frassetti è già passata sì sì certamente invece ci mancano intanto questi sono ancora arrivi a Stresa tenete che questo questo deve ancora farsela bella lunga ecco la lunga ci sarà gente che è quello della maratona gente ci metterà dai 4 alle 5 ore 5 ore mai quanto è capitato al terra acqua cielo Wild Trail dove l'ultimo atleta giunto al traguardo ci ha messo 11 ore e 58 ed è arrivato un minuto prima del tempo massimo e quando calcolatore e quando il sottoscritto Alberto Pizzi che erano all'arrivo ad attenderlo gli abbiamo chiesto ma come vai io me la sono presa comoda mi fermavo bevevo qualcosa ripartivo me la sono presa come una vacanza noi lì aspettare che terminasse la propria prova è stata una cosa molto molto carina vogliamo ricordare a proposito che hai citato la terra acqua cielo ieri c'è stato anche il trail del lago d'orta anche lì io non ero presente non ho visto però mi hanno parlato di un successo sia di pubblico sia di atleti una specialità un po' atipica un po' nuova nel panorama dell'atletica che sta crescendo molto sta tenendo molti consensi se non mi sbaglio nella prova lunga l'ariato secondo l'atleta di diomegna però adesso vive vivornovasso Stefano Trisconi grande Trisca è stato il capire d'Italia grande personaggio è stato un gran personaggio che se non mi sbaglio è l'ariato secondo e con lui si sta molto ben distinguendo un altro cusiano della nostra zona Giulio Ornati che anche lui quest'anno ha fatto veramente una stagione super su questi percorsi ha vinto la terra acquacelo ed era un calciatore Giulio Ornati tuttava nella pusiana da centrocampista difensore esterno quindi insomma Ornati dal pallone è passato ad andare sui picchi eh sì sì e beh magari un domani ti troveremo a fare l'attaccante della Juve Domo o qualcosa tu sicuramente con lo stanza che ho io posso fare l'attaccante sicuro carta velina se vuoi parlare di calcio io seguo un attimino un po' come fisioterapia la squadra del Virtus Villa del grande Prattini salutiamo gli amici del Virtus Villa tu sei il lidolo del felino ma torniamo a fare le persone serie perché abbiamo sempre una telecronica in diretta e queste sono le immagini che giungono da Ferriolo è il passaggio al ritorno di alcuni atleti che stanno già viaggiando verso eh così il Verbania verso l'arrivo di Verbania questi hanno il pettorale ciclamino questi sono tutti impegnati questa è tutta la gente della 33 km ancora immagini sempre che in questo caso sono tornate a Stresa gli alberghi di Stresa è impeccabile è molto nota diciamo così la sceneggiatura l'ambiente paesaggistico di questa manifestazione intanto che abbiamo Ivo Casorati che ci porta altri fogliati interessanti Mauro cosa vedi? niente qui vediamo tutti altri altri passaggi della della 33 credo che mancherà poco per vedere anche il passaggio dei primi della maratona lì a Ferriolo vedremo se il Gregario ha ha concluso il suo lavoro oppure oppure no altri atleti vediamo tutti soddisfatti a Stresa come sempre una cornice di pubblico veramente eccezionale la mezza maratona di quest'anno non ho mai visto così tanta gente e anche oggi dalle immagini che ci giungono in diretta vediamo veramente questo significa che c'è una bella cosa che c'è passione insomma abbiamo ancora un po' di carta abbiamo un po' di risultati passaggi ufficiosi al chilometro 33 per quel che riguarda la perdona il chilometro 18 per quel che riguarda la 33 chilometri primo i neofrazzetti della Genzianella secondo Luca Valente della Genzianella doppietta fino adesso terzo Paolo Ferrigato della Cadese Paolo Ferrigato che insieme a che mi piace ricordare insieme a tutti i ragazzi del corso di corsa di Verbagna sarà impegnato nella maratona di Istanbul a novembre bella lì per cui la 33 è un ottimo allenamento per quel che riguarda i passaggi della femminile al chilometro 18 prima Claudia Gelsomino della Tredica Falzola campionessa italiana di maratona poi Silvi Tramoi che presumo sia parente di quel Wenger Tramoi ma non è la moglie magari la moglie che è in testa terza Antonella Panza poi Luigi De Finis e Elisa Bettini il passaggio a livello ufficioso della maratona al chilometro 22 quindi a Stresa primo è passato Tramoi numero 57 che sta facendo Dall'Epre intanto si sta preparando l'arrivo probabilmente per Ennio Frassetti per il secondo posto Christian Robin poi Colnaghi Luciani Blardone e Riva ma noi ci stiamo preparando i Puffi i Puffi che belli i Puffi che sono in gara grande Puffo e un altro un altro Puffi ha fatto la mezza maratona si sono affermati però intanto sul rettilineo d'arrivo ci si sta preparando ad acclamare l'arrivo di Ennio Frassetti che era al comando della 33 chilometri andiamo a prendere l'ultimo passaggio è sempre stato al comando della 33 con Valenti e Ferrigato immagini che staccano sul rettilineo di Corso Zanitello perché ci siamo siamo quasi pronti ad andare a salutare le motostaffette della polizia ad andare a salutare l'arrivo del vincitore della 33 chilometri dopo che abbiamo già visto vincere Ivan Bressanelli alla mezza maratona in quel di Stresa tra poco ovazione perché questo è un'atleta che merita tanti applausi e poi sono contento che vinca Egno Frassetti anche lui un curottino perché ad ogni vittoria è obbligatorio portare agli allenamenti successivi paste birra vino quindi io lo sapevo io mercoledì sarò presente mangeremo a spazio io lo sapevo che tu eri in mezzo dove c'è da mangiare io non manco ma guarda la tradizione delle paste c'è dappertutto perché se uno arriva tardi all'allenamento se uno magari no quello no non c'è da noi chi vince chi fa il record personale sulla sulla 10.000 mezza su qualsiasi gara è obbligato tassativo ai compleanni portare le paste i compleanni sì è classico però Egno quest'anno ci sta fornendo bravo Egno continua così che noi abbiamo bisogno poi magari gli faremo anche i complimenti perché comunque è un atleta che conosciamo bene certo ed è sicuramente uno degli atleti più competitivi della nostra zona ma noi con le immagini siamo sempre su Stresa ci sono tanti passaggi l'ultimo atleta è previsto all'arrivo tabella di marcia alle due e mezza alle due e mezza alle 14 e 30 quindi insomma vuol dire che si tratta di una fiumana una fiumana sì sì va avanti anche oltre le 5 ore un bel serpentone di gente va avanti anche oltre le 5 ore altri atleti con il pettorale arancione questi sono atleti che vanno a concludere la loro mezza maratona ma l'attenzione adesso è tutta sul rettirino d'arrivo per la imminente conclusione della gara sui 33 km che vede Egno Frassetti della Genzianella in testa al passaggio al km 18 1.05 e 51 1.06 e 14 per Luca Valenti quindi insomma diciamo che lui se la sta un pochino gestendo sì 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 posizioni ben eliminate no è egno a a qualcosina in più in questo momento qualcosina di tanto in più praticamente è andato via con i primi poi chiaramente lui ha gestito la sua gara ha fatto il giro di Boa in precedenza però magari chi lo sa Wenger e Robin hanno fatto da lepre a Frassetti lo hanno parato fuori che poi al giro di Boa è andato in testa e ha un bel un bel vantaggio su Luca Valenti che è passato in seconda posizione al km 18.3 di gara per chi si fosse messo per chi si fosse messo in ascolta in misione solamente in questo momento ricordiamo telecronica integrale della quarta edizione della Lago Maggiore Marathon sugli schermi di Vicio Azzurra TV ci potete seguire e ci starete sicuramente seguendo anche in streaming per quel che riguarda il nostro sito tuttonotizia.info ma anche www.lagomaggioremarathon.it intanto ci sono due disturbatori che tu dovresti conoscere si stanno facendo le boccacce ok abbiamo qua adesso gli tiriamo dietro qualcosa spariamo ok allora allora sempre la situazione delle immagini che ci giungono da stresa la conclusione dei mille e mezzi maratoneti giusto sono mille e sei che hanno disputato che stanno disputando stanno per finire la loro impresa è un'impresa vedete come impresa è proprio una bella impresa correre correre così tanto tanto queste sono sempre le immagini distresa arrivo finish qui siamo presumibilmente a Ferriolo vediamo il passaggio dei 33 sono i tanti atleti che stanno che stanno concludendo la 33 altre vetture della polizia stradale ecco che arriva nei primi questi sono i primi della maratona ragazzi sì 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 qui abbiamo dovremmo avere Roman Wenger e Christian Robin eccoli lì ancora insieme per territo questo ragazzino quarantenne che ragazzi questo ragazzino quarantenne gli sta tirando tre quarti di gara al buon Christian Robin quindi una cena gliela deve vabbè minimo una cena 57 eccolo qua Roman Wenger classe 1974 poi Christian Robin numero 58 sono a Ferriolo quindi adesso adesso potremmo quasi dire tutta discesa stanno dominando hanno dominato dal primo metro questi ragazzi quindi tanto di cappello soprattutto al al gregario diciamo così perché a questo punto credo che arrivato Ferriolo la porterà anche a termine sì sì io penso che a questo punto potrà arrivare con lui tranquilla la seconda posizione se la se la può anche andare a meritare intanto siamo tornati a Rettilino d'arrivo Rettilino d'arrivo Corso Zanitello le nostre varie telecamere la fettuccia noi la vediamo da qui dalla nostra postazione siamo dislocati in cabina di commento più che cabina in zona di commento a circa fai 150-200 metri dal portale d'arrivo è già pronta la fettuccia perché Ennio Frassetti leader del 33 km è comunque vicino è passato per tempo di fronte alla telecamera posta a Ferriolo quindi crediamo che ormai sia davvero prossimo ad arrivare le ragazze della Veronica Argento Onlus sono pronte a attendere a mollare la fettuccia al momento dell'arrivo tu hai vinto parecchio che sensazione ti dà? eh beh comunque vincere una gara ti dà sempre una grande soddisfazione ti ripaga dei sacrifici fatti in allenamento di di tante cose per cui insomma sono momenti che ti devi gustare fino in fondo sono momenti che ti gusti fino in fondo io ti chiedo questo quando è che inizia a gustartela? beh chiaramente a uno come Ennio che ha già un bel margine di vantaggio oramai viaggia tranquillo gli ultimi chilometri sono veramente una passerella già da lì ti cominci a gustare il senso la gratitudine che che ti aspetta poi all'arrivo invece ci sono tante gare che te le devi sudare e poi soltanto all'arrivo quando tagli quando sfondi quella fettuccia è avere la gioia la gioia e la soddisfazione sono arrivato io per primo credo che comunque sia un pochino una sorta di pane quotidiano perché sì è bello è vero che lo si fa per divertimento si partecipa però poi vincere è la cediegina sulla torta certo gente come Comegno Luca Valenti o Blardone o tutta questa gente qua della nostra zona comunque sacrifica molto tempo tempo libero per per dedicare gli allenamenti per cui insomma quando lo fai in un determinato modo poi dopo insomma speri che di riuscire a portare la casa il meglio anche perché anche perché poi magari possiamo in attesa dell'arrivo di Frassetti vedendo queste immagini dei passaggi in quel di Ferriolo com'è il movimento podistico anche dal punto di vista degli appuntamenti nel Verbano Cusio-Ossola a Verbania in Ossola nel Cusio soprattutto per quel che riguarda il podismo le gare non in montagna ma su terra su asfalto ma diciamo che adesso queste due manifestazioni create dal Paolo stanno facendo da tramite per per un'unione numerose altre altre iniziative altre manifestazioni si vede che comunque il numero sta crescendo sempre sempre di più per cui adesso magari dopo questa maratona non ci sono proprio più grandi grandi appuntamenti qua nella nostra zona perché però la stagione è stata lunga per cui sta arrivando? no dovremmo no appena arriva chiaramente vedremo arrivare la vettura sedia a tempo che abbiamo visto al passaggio di Ferriolo Frassetti ha davanti quali sono quali possono essere stati gli appuntamenti più belli perché c'è la Lago Maggiore Half Marathon la Lago Maggiore Marathon ma anche una bella mezza del VCO a Gravellona che è molto spettacolare che ormai è una classica consolidata ormai da se non mi sbaglio 19 anni si sono quasi 20 anni sono quasi 20 anni che la propongono gli amici del Gravellona del Besutti mandiamolo mandiamolo un saluto a Vanni Besutti che è un personaggio insomma che si sbatte parecchio brutale da dire così però si sbatte è uno che si sbatte per il podismo della nostra zona sì sì fortunatamente ci sono delle persone ancora di questo calibro che fa sì che che il movimento possa possa crescere sono personaggi importanti ma ci sono in ogni sport quelli che davvero cercano quelli che lavorano dietro le quinte bravo bravo stavo dicendo quello di tenere alte le bandiere degli sport magari restando dietro le quinte senza fare un pochino senza andare sotto i riflettori perché poi ci sono quelli che parlano e quelli che lavorano è vero anche lì è brutale però è semplicemente così è certo in ogni cosa sempre in attesa della conclusione di Frassetti la Fiumana che ormai sta raggiungendo la parte opposta di Maratona questo è Colnaghi che è al terzo posto però è tanto staccato è staccatissimo sì 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 e anche il passo rispetto ai due austriaci è molto più non dico affaticato diciamo passami meno armonioso mi piace meno armonioso con il Nike che comunque è in terza posizione e rimane comunque in zona in zona podio zona medaglia per quel che riguarda zona medaglia per quel che riguarda la 42 km e 195 la maratona vera e propria che stiamo trasmettendo in diretta e in esclusiva sugli schermi di VCO azura tv in streaming anche sul nostro sito tuttonotizia.info e sul sito della manifestazione lagomaggioremarathon.it Gianluca Trentini Mauro Bernardini al commento alla telecronaca e al commento tecnico e devo dirlo Mauro Bernardini che sta passando alla grande il momento dell'esordio e stai andando veramente alla grande la mia nuova veste hai visto si passa sempre dall'altra parte della barricata tanto ci sono dei mezzi che probabilmente sono fermi sulla sulla carreggiata sono mezzi chiaramente comunque dell'organizzazione adesso è bello vedere come i tanti atleti che hanno girato la boa al punto di ritorno del 33 km situato tra Baveno e Stresa stanno tornando verso il portale d'arrivo posto qui dove siamo noi in piazza Garibaldi sul lungo lago di Verbania adesso arriveranno tutti qui quelli della 33 la maratona e la maratona staffetta 21 più 21 non abbiamo ancora avuto ecco qua un'ora 57 12 siamo quasi alle due ore di gara questo è l'orologio ufficiale le immagini che vi giungono queste proprio dal lungo lago di Verbania Pallanza e torniamo però a vedere i passaggi in quel di Ferriola adesso c'è anche una luce particolare facciamo anche un pochino più fatica a vedere nei nostri monitor però comunque la situazione è ben chiara Frassetti al comando della 33 davanti a Valenti e Ferrigato Wenger e Robin una coppia austriaca al comando della maratona al terzo posto c'è il buon Colnaghi quindi insomma sembrerebbero abbastanza delineate le situazioni dei poli sembrerebbe proprio a meno di colpi di scena di sorprese sembrerebbe fatta sembrerebbe fatta e noi chiaramente ci aspettiamo ci aspettiamo abbiamo tentato di leggere prima la tattica di Edo e Battista ci attendiamo che a questo punto Robin o va via nel finale attenzione però intanto andiamo subito sulla rettilineo d'arrivo perché dovremmo vedere spuntare la vettura eccola qui allora Ennio Frassetti sta per arrivare poi tra poco avremo anche modo di sentirlo Ennio Frassetti eccolo qui pochi metri la Genzianella vince anche oggi eh sì vince anche oggi eccolo lì la macchina segna tempo un'ora cinquantasei e qualcosa Ennio Frassetti la Genzianella che è passato al chilometro diciotto con il tempo accreditato è di un'ora zero cinque cinquantuno ufficioso ma sicuramente il tempo era quello è al chilometro di conclusione della mezza gli mancano 195 metri della 33 certo gli mancano 195 metri in meno alla conclusione tutto pronto sul rettilineo d'arrivo Mauro questi sono bei momenti questi sono bei momenti sì quanti volte li hai vissuti non tantissime però qualcuna l'ho vissuta anch'io eccolo qua eccolo qua va a dare la mano chiama con sé un bambino che però non vuole andare suo figlio l'applauso per Ennio Frassetti che vince a Verbania la 33 chilometri e taglia il traguardo in questo momento chapeau per Ennio Frassetti primo vincitore della 33 chilometri nel contesto della Lago Maggiore Marathon ci sembra ancora mauretto lo vediamo ancora in perfetta forma quindi guarda come se non avessi neanche corso sì no è pronto è la classica espressione di uno che dice aspetta che la rifaccio che mi sono divertito ecco qui le immagini saluto con i fotografi tra poco dovremmo averlo anche ai microfoni degli speaker c'è Ivo Casorati eccolo qui dovremmo esserci quasi tanto parte immancabile la canzone di Queen Ivo Casorati dovremmo avercelo eccolo qua vai Ivo con Ennio Frassetti si avvenera Ennio Frassetti la musica ci sta sempre bene sono favolosi adesso appena Frassetti sarà pronto Ivo Casorati lo porterà ai nostri microfoni per l'intervista di Ennio con Ivo Casorati ad intervistarlo eccolo qua e allora siamo qui con Ennio Frassetti il vincitore di questa 33 chilometri l'abbiamo visto molto contento però vogliamo sapere innanzitutto un suo giudizio su questa gara e il suo stato di felicità al momento niente sono contento perché sto preparando la maratona di Torino e questo era il test migliore sui 33 chilometri in previsione di Torino la gara è bellissima al giro di Boa al diciottesimo quando torni indietro che incontri tutti è uno spettacolo tutti che ti salutano che ti incitano ho dovuto toccare la mano a tutti è bellissimo una bella sensazione complimenti a tutti d'altronde sono le come dire le difficoltà che toccano a chi sta vincendo una gara poi gioco abbastanza in casa tutti mi conoscono mi salutavano è stupendo grazie mille e allora facciamo ancora un grandissimo applauso a Ennio Frassetti che è il vincitore della 33 chilometri di questa Sportway Lago Maggiore Marathon e allora l'idolo delle masse possiamo dire così i miei Frassetti eccolo qua il figlio probabilmente la moglie la moglie è bello anche questo ma l'abbiamo vista la scena a Ferriolo di Frassetti che passava si prendeva gli applausi di tutti coloro che erano cinque inverso è una bella bella è una sensazione adesso andiamo ad attendere andiamo ad attendere la conclusione di Valenti che era aveva circa un minutino e qualcosa di ritardo però non crediamo che sia già arrivato potrebbe essere una bella non lo so potrebbe essere una bella battaglia con quelli dietro perché al diciottesimo Ferrigato non era molto lontano no il diciottesimo Ferrigato era un minuto 6 e 14 1 8 e 31 insomma un po' più del primo però mi sa che Frassetti ha guadagnato perché non lo vediamo arrivare Ferrigato ancora quindi sicuramente la sua vittoria per quel che riguarda la 33 km è stata più che pulita più che perfetta quindi c'è niente da dire ha mantenuto i pronostici della vigilia eccolo qua lo abbiamo visto che non è sempre eccolo eccolo ecco che arriva Luca Valenti anche lui arriva Luca Valenti anche lui dell'agenzia Nella quindi doppiettona del team di Gigi Corti Gigi Corti felice perché si porta a casa una bella doppietta con Ennio Frassetti e con Luca Valenti che va a includere la mezza la pardon 33 km in seconda posizione e salirà comunque sul podio bello 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 tagliando in spinta abbastanza anche lui in spinta questo gergo tecnico in spinta in spinta sì quando arrivi ancora bello pimpante che non ti trascini le gambe ecco ha tagliato il traguardo secondo dunque Luca Valenti l'applauso per lui perché davvero ha meritato sono contento arriva anche Luca sta arrivando anche da un momento fisico un po' difficile se ha portato a termine la gara vuol dire che comincia a girare comincia a girare comincia a girare quindi va sicuramente molto bene per lui adesso al terzo posto attendiamo l'arrivo di Paolo Ferrigato però attenzione perché poi Beretta quarto della Villa Santese era più o meno staccato da 108 31 19 39 quindi probabilmente non era così tanto potrebbe anche esserci qualche novità Ivo Casolati vai eccoci qua con il secondo classificato della 33 km Luca Valenti oggi Enio era imbattibile ecco ecco allora abbiamo qualche difficoltà ad avere la voce ecco no niente abbiamo avuto qualche difficoltà ad avere la voce di Valenti andiamo noi in commento perché risentiamo se arriva la voce no non sentiamo la voce di Valenti ma sicuramente sarà soddisfatto sì presumo che sarà contento anche lui è in preparazione insieme a Frassetti della Maratona di Torino per cui ha fatto una buona figura sicuramente ha fatto una buonissima buonissima figura eccolo qua ma siamo contenti quando vincono gli atleti nella nostra zona quando si si impongono fanno ben figura siamo tutti contenti siamo contenti siamo soddisfatti perché davvero comunque è stato un momento importante e qua è dura qui siamo ancora per gli uomini qui comincia a essere comincia a essere dura qua ancora molto lunga ecco che arriva il terzo vediamo chi è il terzo classificato intanto io intanto io ho uno strano ritorno in cuffia attendiamo di vedere questo l'ho detto chiaramente in virtù della regia adesso attendiamo di vedere il terzo classificato eccolo qua dovrebbe essere proprio Paolo Ferrigato non sembrerebbe però io credo che sia Lorenzo Beretta perché la cadese la cadese ha la maglia verde quindi non è sicuramente un atleta della cadese adesso appena avremo modo di stringere sul numero di gara andremo a vedere di chi si tratta l'atleta terzo classificato che va a chiudere a rispetto del terzo posto di Ferrigato al passaggio al chilometro 18.3 è il numero 3068 quindi dovrebbe essere Lorenzo Beretta adesso andiamo a controllare e a verificare il numero di gara ancora il passaggio atletica azzurra è il numero 3060 quindi è Marco Cattaneo che è l'atleta che va a chiudere in terza posizione 3060 abbiamo avuto un problema di visualità quindi è Marco Cattaneo Berigato ancora non lo vediamo Berigato ancora non lo vediamo è passato terzo al chilometro di gara numero 18.3 e va a chiudere intanto ecco che arriva un altro atleta a terminare la gara sì questo è l'atleta della Reale Mutua viene messo in questo momento a lui al collo la medaglia e ancora abbiamo la composizione del podio della 33 km di neofrasetti Luca Valenti Marco Cattaneo direi che comunque è un podio molto interessante buoni atleti anche Cattaneo sì sì è un buon atleta altre queste sono le ragazze che attendono di mettere al collo la medaglia agli atleti che arrivano la classica risata di chi si accorge di essere in diretta a televisione questo non c'è non c'è problema Barbara che sta aspettando il suo compagno Paolo Ferrigato io penso che voglia essere lei a mettergli la medaglia al collo direi che è più che la corda al collo magari eccoli qua intanto frasetti valenti e Cattaneo che vanno a indossare la medaglia e noi ci lasciamo per un istante di pubblicità torneremo poi dopo perché entreremo nel vivo con la conclusione della Maratona del Lago Maggiore Marathon un attimo di pubblicità però intanto vedo che c'è un'intervista ma noi mandiamo la pubblicità a più tardi 19 ottobre 2014 quarta sport è il Lago Maggiore Marathon 42 km di emozioni tra Berbania e Stresa gara fodistica internazionale su diverse distanze sport expo e corse non competitive sul lungo lago di Berbania per passare un pomeriggio di festa e sostenere i nostri progetti benefici diventa protagonista anche tu dell'evento sportivo più importante della provincia info su www.lagomaggioremarathon.it diretta lungo lago di Pallanza dove stiamo per trasmettervi telecronica diretta integrale ed esclusiva la quarta edizione della Lago Maggiore Marathon evento organizzato dalla sport e promotion di Paolo Ottone non sarò solo chiaramente eccoci qua per grazie a tutti 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 e rieccoci in diretta con la Lago Maggiore Marathon subito la linea a Ivo Casorati per le interviste ed eccoci qui con Marco Cattano terzo della gara della 33 km un appiazzamento che ti soddisfa Marco? non me l'aspettavo quindi va benissimo sì sì bella gara bel percorso impegnativo ma molto bello era la prima volta quindi di qua correre? ho fatto la mezza ho fatto la mezza per cui più o meno lo conoscevo è veramente bello bene hai fatto la mezza la 33 l'anno prossimo maratona sì speriamo grazie mille grazie ancora Marco Cattano terzo classificato della 33 km lascio la parola a Davide e noi la riprendiamo invece qui dallo studio perché ricordiamo che comunque Ivo Casorati Davide D'Acco e in precedenza anche Alberto Pizzi sono gli speaker della manifestazione il loro segnale arriva anche alle nostre immagini e vediamo a concludere altri atleti in gara e questo per quel che riguarda la 33 km vinta da Ennio Frassetti della Cadese perdona della Genzianella davanti ah ma mia ti scomunica il Gigi sì 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 immagino ma chiedo Venia secondo posto Luca Valenti terzo posto Cattaneo della Azzurra Garbagnate pubblico che sta arrivando eh pubblico piano piano sta arrivando anche perché ricordiamo che oggi pomeriggio dovranno iscriversi alle manifestazioni di contorno ci sono 500 metri due chilometri ricordiamole ricordiamole alle 14.45 la Lago Maggiore Bambini Run di 500 metri la Lago Maggiore Mini Marathon alle 15 di due chilometri chi si iscrive aiuta i progetti benefici della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica l'Associazione Veronica Argento Onlus AIS l'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Scusami forse ci abbiamo Valenti che prima la sentivamo male siamo qui con Luca Valenti secondo classificato della 33 chilometri ci dicevi prima che è stata per te una vera sofferenza ma alla fine sei riuscito a portarla a casa sì sono contento perché sono riuscito come dici tu a terminare la gara visto questo problema muscolare che mi affligge da un mesetto quindi va bene così oggi il tuo prossimo obiettivo mi dicevi è la Maratona di Torino insieme a Egno Egno Prassetti Maratona di Torino sì che stiamo preparando assieme è un traguardo che vorremmo raggiungere insomma io sto tentando magari il primato personale visto che la Maratona è veloce e quindi la preparazione continua così oggi sono contento di avere finito una bella cornice di pubblico panorama sempre bello qua quindi va bene così grazie ancora Luca Valenti secondo classificato ci vediamo poi alle premiazioni 13 e 15 e io ripasso la parola a Davide e noi la riprendiamo invece qua dal commento l'avevi detto che aveva avuto dei problemi sì 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 purtroppo Luca ha avuto questo questo problema ha un polpaccio già da un po' da un po' di giorni che gli dà noia vediamo vediamo come ah chi è questa? la Gelsomino eccola qua la prima donna la prima donna della 33 brava 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 andiamo a prendere il passaggio della prima donna in mezza maratona che è Claudia Gelsomino dell'Atletica Falzola lei è stata campionessa italiana di maratona ha preso di sprovvista anche gli addetti ai lavori all'arrivo senza senza fascia alla fine non ha potuto tagliare il traguardo come non si fa così vincitore deve essere adesso dovremmo avere dunque anche in questo caso non appena Claudia Gelsomino dell'Atletica Falzola che è campionessa italiana di maratona andrà un pochino a rinfocillarsi però è bella serena guarda la bella passosa tranquilla farà la maratona di New York tra due settimane credo sempre i primi di novembre New York numero 3138 per lei ci sono altri arrivi di atleti a breve io credo che il nostro Ivo o chi per lui andrà a intervistare anche Claudia Gelsomino che è la prima classificata della 33 km in gara quest'oggi quindi per quel che riguarda la prova media diciamo così non è la mezza maratona non è la maratona la media maratona la chiamiamo così la chiamiamo così dai così lo ci troviamo a 33 km altri atleti che sono in conclusione davvero grande spettacolo qui sul lungo lago di Verbania per questa quarta edizione della lago maggiore maratona ricordiamo al comando per quel che riguarda la gara grande Roman Wenger e Christian Robin sono due austriaci che hanno praticamente attaccato al chilometro due di gara praticamente subito ecco maglia gialla vediamo arrivare Enrico Di Lullo Enrico Di Lullo altro curottino io sono di parte però no no io ammetto la tua la tua conoscenza ammetto il tuo tipo per i curottini va bene ce ne faremo una ragione come si dice un'altra donna intanto sta rifacendo l'arrivo hai visto hai visto che ti ho detto gli hanno fatto rifare l'arrivo perché mancava la 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 fettuccia e dunque giustamente come si fa nelle migliori tradizioni per vedere meglio gli hanno completamente fatto rivedere rifare l'arrivo tutti fotografi eccola qua allora adesso arriva Ivo Casorati con l'intervista Carlo Gelsomino vai pure Ivo siamo con Claudia Gelsomino la vincitrice di questa 33 chilometri della Sporto del Lago Maggiore Marathon ovviamente eri la favorita in quanto tu sei la campionessa italiana di maratona quindi insomma 33 chilometri non dico che sono uno scherzo però per te sono una distanza fattibile sì però non diamo niente per scontato per me oggi era un banco di prova perché tra due settimane sarò alla maratona di New York e devo dire che sono felice dell'allenamento che ho fatto felicissima poi sono arrivata anche prima quindi meglio così come hai trovato il percorso di questa 33 chilometri? molto bello panoramico allenante sicuramente non velocissimo però per quello che serve a me è perfetto allora facciamo un bocca al lupo a Claudio Gelsomino complimenti per oggi e soprattutto un bocca al lupo per la tua impresa New York grazie ancora bene allora rientriamo noi percorso allenante percorso allenante mi è piaciuto percorso allenante quindi vuol dire che si cercano anche dei percorsi per allungarsi in maniera migliore adesso arriva anche il sole che ci disturba ancora più di prima facciamo anche vedere il monitor comunque percorso allenante sì beh chiaramente qualche strappettino qualche non è completamente piatta qualche tanto ci dice dalle notizie dalle ricerche ti dicono che i primi sono al trentanovesimo chilometro per cui tempo dieci minuti qualcosina di più li vedremo io presumo che li vedremo arrivare Wenger e Robin sempre che siano loro due in testa possano arrivare sembra i nomi di una fiaba sembra i nomi di una fiaba e intanto c'è come detto la grande attesa perché poi ora arriviamo al coronamento la maratona la gara è maratona è maratona è la gara che conclude i giochi olimpici è la gara che conclude è la gara che conclude i giochi olimpici e che dunque è quella che è più sentita anche da tutti la regina la regina degli sport olimpici non me ne vogliano gli altri ci mancherebbe altro come detto si conclude la maratona con si conclude ancora con appunto le olimpiadi con con la con la maratona abbiamo qualche piccolo problema tecnico è tutto perfettamente a posto dicevamo è la più bella la più difficile è la gara è la gara hai detto bene forse magari a livello di adrenalina ti può dare di più una finale dei 100 metri dei 400 metri però la maratona è qualcosa di epico sì la maratona è sicuramente qualcosa qualcosa di epico perché perché ti fa avere grandi 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 emozioni è spettacolare la gara dei 100 metri e però diciamo che la maratona è sicuramente la gara più più bella più importante più storica dalla portata più anche quella se vogliamo dalla portata più epica più storica perché poi c'è anche una storia dato Ivo Casolati con un'intervista do you like this place I like it very much I want to make holiday here once it was my first time here but I want to make holiday here we'll wait for you for the marathon of the next year next year maybe I don't know thank you thank you to Silvi Tramoy complimenti ancora Silvi Tramoy diceva che era andiamo noi con una breve traduzione ha detto che è molto soddisfatta perché lei si sta preparando per la maratona di New York e al momento in cui Ivo ha chiesto ma ti è piaciuta la zona ha detto sì così tanto che l'anno prossimo vengo a fare le vacanze qua e allora ecco che torna perfetto il discorso sport e turismo quanto servono queste manifestazioni in una zona turistica benvengano la maratona il giro d'italia chi più ne ha più ne metta perché portano indotto portano turismo e noi su questo chiodo martelleremo sempre io abbastanza ho girato un po' di posti e cioè qua posti come qua dove li abbiamo dove ci sono dove ci sono in tanti posti paghi il biglietto per vederti le cose veramente assurde e qua sono quasi sconosciute quale cose ce le hai ed è bello anche quello insomma correre ma è proprio il motto della gara corri sul tracciato più bello del mondo perché una maratona di 42 più chilometri praticamente tutta costeggiando il lago io penso che sia davvero una cosa di grandissimo di grandissimo livello intanto vediamo che a breve Ivo Casorati potrebbe avere la conclusione Paolo Tone in diretta sarà con noi fino alla fine Paolo sì ciao di nuovo eccoci qua dove siete di essere con voi solo fino al 41 perché poi è un tratto abbastanza delicato per me per noi adesso siamo al 40.5 40.6 allora ci siamo sì si è fermato come vi si è fermato come pensavamo come come diciamo prima stamattina al chilometro praticamente 36 ha tirato il 36 e poi si è fermato l'atleta che ha tirato tutta la gara praticamente allora abbiamo al comando solo Christian Robin giusto? adesso con me lo vedo la lontana deve essere l'otto finale 58 Christian Robin un atleta al comando che sta guidando dunque la maratona del Lago Maggiore la Maratona del Lago Maggiore tiene comunque il passo di un 3.30 sempre qualcosa adesso ha aumentato addirittura un paio di chilometri ha fatto il telo più veloce quindi sta correndo molto molto bene davvero veramente bravo 2.25 proiezione finale ha avuto il compagno di squadra tra moi come diciamo lepre però questi hanno attaccato praticamente al chilometro 2 di gara quindi insomma hanno fatto corsa di testa da questa mattina sì 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 beh loro sicuramente sono venuti qua non sappiamo nemmeno guarda di questi due atleti forti gli ho vissuto alla partenza gli ho chiesto mi hanno detto noi proviamo a fare un 2.25 attorno a quel tempo lì corriamo insieme ma hanno lavorato veramente molto molto bene molto bene 2.23 ti do il passaggio del 41 poi vi lascio perfetto perfetto allora come preferisci siamo a 100 metri come preferisci chilometri sono 42 195 siamo 2.23 adesso di gara quindi presumibilmente saranno intorno alle 2.27 il tempo conclusivo di questa atleta qualcosa magari sì te lo do in diretta adesso è passato il 41 in questo momento allora passaggio al chilometro 41 adesso di lato Gianluca perché è un pezzo delicato perfetto allora grazie a Paolo Ottone che ora arriva nel tratto conclusivo della gara ricapitoliamo la situazione un uomo solo al comando è il numero 58 austriaco di Villach Christian Robin che a questo punto sta dominando la sua gara Wenger si è fermato ha dominato hanno dominato dall'inizio alla fine mi sembra strano che il secondo il suo compagno si è fermato a 6 chilometri dalla fine a quel punto abbiamo col Naki al secondo posto quindi adesso non sappiamo chi può essere il terzo potrebbe Luciani Luciani Blardone un atleta tedesco quindi non sappiamo adesso chi è il terzo abbiamo degli atleti della zona che si giocano al podio bello questo è molto bello molto significativo ma in testa ha già superato il chilometro numero 41 Christian Robin della OLV LC Villach quindi siamo comunque come detto in precedenza abbastanza ai confini con la carnia perché poi dato il mezzo a Villach non c'è molto tu sai che a Villach ci fecero anche un campionato del mondo di ciclismo nell'87 non sono così ferrato nel ciclismo tutto lì primo Roche secondo Argentin terzo Fernandez fu un mondiale molto molto noto l'ultimo mondiale l'ultimo mondiale di Francesco Moser ma parliamo di Maratona Maratona che è meglio anche perché se mi metto a parlare di bicicletta non finiamo più e abbiamo come detto Christian Robin che è al comando molto ben tirato dalla sua super lepre Roman Wenger che poi si è spostata e ha lasciato via libera ma questo l'abbiamo capito subito sì vedendo l'età vedendo l'età di Tramoi che è un atleta del 74 più che l'età è che proprio l'ha portato in carrozza dall'inizio fino al 36esimo tanto guardate che belle immagini degli atleti che vanno a concludere la loro 33 e esultano perché poi la loro piccola vittoria è questa arrivare al traguardo davanti alla gente prendersi l'applauso adesso c'è un sacco di gente è arrivata un sacco di gente qua sul lungolago altri atleti che vanno a chiudere la loro forza la loro prova però noi ormai dovremmo già essere un paio di minuti ci siamo un paio di minuti ci siamo con il successo di Christian Robin che andrà a vincere la Lago Maggiore Marathon che nonostante non abbia visto al via tanti top atleti etiopi marocchini keniani è stata comunque molto spettacolare e letteralmente dominata dall'Austria siamo passati dall'Africa all'Austria sempre a sempre a Österreich Austria l'Austria che va a dominare questi siamo noi due che siamo qui seduti a Bordolago potremmo quasi dire in attesa di portarvi in diretta la conclusione della Lago Maggiore Marathon con l'Austriaco che si chiama Christian Robin classe 1983 di Villac che sta per andare a concludere la propria prova andare a concludere sicuramente a braccia alzata e la propria prova tra poco vedremo sbucare dal fondo del retilineo Paolo Ottone attenzione eccolo qua eccolo qui allora ci siamo con Christian Robin che sta per chiudere scortato dagli uomini della polizia vediamo se preparano la fettuccia d'arrivo sul traguardo ci siamo quasi con Christian Robin cosa devo dire applaudire tanti applausi per questo atleta perché veramente ha avuto 42esimo chilometro mancano 195 metri d'arrivo Mauretto grande grande si arriva bene guarda come arriva 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 bello baldanzoso e allora possiamo andare ad ufficializzare che a vincere la Lago Maggiore Marathon edizione 2014 c'è un atleta austriaco il suo dorsale il numero 58 che bel passo che ha ancora signori l'applauso per Christian Robin che va a vincere alza le braccia al cielo taglia il traguardo Christian Robin primo vincitore della Lago Maggiore Marathon 2014 chapeau semplicemente chapeau stretta di mano con Paolo Ottone un abbraccio per lui ha dichiarato il 2,25 ha fatto il 2,20 ha fatto 2,23 2,28 vediamo il tempo ufficiale però fatto sta che l'hanno meritata in pieno no? eccolo qua eccolo qua braccia alzate fresco come una rosa sembra anche lui quasi pronto Ivo Casorati c'è anche Karen Rossi la traduttrice che poi andremo a sentire dovremmo esserci quasi appena siamo pronti con le interviste poi andremo a ascoltare il buon Christian Robin dovremmo quasi esserci però ancora non siamo pronti quindi appena li vedremo sì ci siamo Ivo Casorati Karen Rossi con le interviste tra poco sembra che ha fatto una mezza maratona sì mi sembra molto fresco Ivo intervista vai allora siamo qui con il vincitore un attimo perché stiamo cogliendo il secondo concorrente un secondino chiediamo allora andiamo un attimo agli amici di Alzzurra Viciota andiamo noi in conclusione questa è la voce di Davide D'Aco quindi dovrebbe chi è che dovrebbe essere il secondo col Naghi che è già così vicino così ha detto il buon Davide D'Aco eh sì noi andiamo aspettiamo visto che ci hanno fermato dal dal zona d'arrivo però mi sembra abbastanza strano che possa arrivare già il secondo classificato Ivo Ivo con l'intervista vai eccoci qui con il vincitore della quarta edizione della Sporto di Lago Maggiore Marathon con Christian Christian Robin ci sarà Karen del British Institute che tradurrà per noi allora la prima domanda ovviamente è quanto è soddisfatto Christian di questa vittoria are you satisfied of this race of this victory how satisfied are you I'm very satisfied because it's my personal best time it's my fourth marathon and very nice very nice race very difficult conditions and the end of the race was very hot but but it was perfect it was very perfect I had a pacemaker until km 35 and he made a very very good job and so I had 7 km for me alone and yeah this was very perfect very nice race and thank you for pushing me Allora dice che è stato tutto molto perfetto anche perché le condizioni sono insomma abbastanza difficili è uscito il sole c'è molto caldo questa è stata per lui la sua quarta maratona e il suo miglior tempo quindi che dire perfetto grazie anche ai pacemakers che l'hanno aiutato ad arrivare fino a qui e a mantenere un certo ritmo thank you for coming Christian see you for the prize ceremony grazie ancora a Christian il vincitore di questa quarta edizione asporto ma ovviamente certamente il suo compagno di squadra gli ha dato una grossissima mano ringraziato lui ha ringraziato il pacemaker ringraziato a moi perché ti ha tirato per 35 km 35 km 35 km 35 km quindi adesso dovremmo avere colnaghi in seconda in seconda posizione numero 56 dovrebbe essere lui che va sul podio come secondo quindi sarebbe davvero una ottima impresa per il barbone per il barbone insomma arrivare secondo ad una maratona come la Lago Maggiore Marathon sicuramente è importante è vero non ci sono i top atleti però i top atleti sono loro e arrivano in un'ottima è sempre arrivare in fondo comunque è importante arrivare sempre in seconda seconda posizione questa è una donna che però va a concludere ancora la 33 sì la sua 33 km ma potrebbe essere la terza della mezza della mezza maratona intanto salutiamo gli amici di stream che sono passati nei pressi della nostra postazione noi fatichiamo a vedere il numero dallo schermo è arrivato veramente il sole che batte proprio sulla sulla nostra postazione intanto dovrebbe arrivare Ivo Casorati a intervistarla quindi appena andiamo in postazione con l'atleta che è in terza posizione possiamo intervistarla eccoci con Antonella eccoci con Antonella Panza terza classificata della 33 km ti vediamo un po' faticata mi immagino tu sia anche molto soddisfatta sì sì abbastanza ho avuto un po' di calo negli ultimi 4 km sono stata con le lepre fino al 18 sono stati fenomenali perché mi hanno spinto comunque a tenere il ritmo e sono contenta comunque grazie mille di tutto come hai trovato il percorso? molto molto bello scorrevole comunque è meglio dell'anno scorso ecco grazie grazie ad Antonella Panza terza classificata della 33 km della Sportway Lago Maggiore Marathon bene piano piano si stanno delineando tutte le classifiche delle varie gare quindi possiamo ricapitolare la 33 primo Frassetti secondo Valenti terzo Cattaneo per la Maschile prima la Gelsomino seconda la Tramoi e terza Antonella Panza per quel che riguarda la 33 km femminile adesso aspettiamo la Maratona vediamo se sarà il buon Colnaghi a salire sul secondo gradino del podio adesso siamo in attesa di avere Colnaghi però era molto staccato quindi sicuramente gli avrà rifilato gli avrà rifilato sicuramente tanto abbiamo visto tanto tempo abbiamo visto aperiolo che aveva già 4-5 minuti di distacco e come è arrivato l'austriaco così in spinta si presume che il distacco possa essere solo aumentato sì perché andava ancora era ancora bello è vero che come hai detto tu questa è un'immagine bellissima si arriva con il figlio mano nella mano è sempre comunque eccola qua guarda che bella questa immagine qui papà e figlia presumo ed è bello davvero vedere anche queste queste situazioni qui fanno parte di tutto il coronamento della della conclusione di una gara sì dicevamo quindi la situazione che adesso dovrebbe andare a vedere la costituzione del podio della maratona c'erano Colnaghi che al chilometro 22 e 7 al giro di bora ha passato in seconda posizione poi Luciano Stefani Blardoni Riva e Andrè Hop vediamo se sia un pochino ricostruita la situazione o se magari è tutto confermato come del resto è stato per la femminile della 33 perché Gelsomino Traboglia e Panza già al chilometro 18 e 3 erano passate nell'ordine e hanno mantenuto nell'ordine hanno mantenuto le posizioni la maglia della caddese questa non ci sbagliamo quindi non avremo non rischiamo fucilazioni da nessuno esattamente adesso anche le condizioni cominciano a essere un po' pesanti per gli atleti perché comincia a fare caldo e chi adesso si trova nelle zone di ferriolo diciamo così intorno al 30 35esimo sarà una bella sofferenza perché il scaldo adesso comincia a essere abbastanza importante per chi corre come si va a reintegrare dopo una gara del genere cosa bisogna prendere cosa bisogna bere cosa bisogna mangiare sicuramente dopo una gara dopo una maratona il rientrico dei liquidi sali minerali è importantissimo per cui l'acqua acqua sì anche integratori sali integratori cerca se ci sali tanto vediamo arrivare a anche se dagli ultimi studi dicono che una buona birretta ah ecco sì questa è vero è vero dicono che la birra è un ottimo un ottimo integratore poi chiaramente c'è il rischio che quando si va a casa la patente resta lì però però dicono è vero questo l'ho sentito anch'io che la birra è anche un ottimo decontratturante qualcosa del genere evita evita i crampi evita i crampi sì io la sto sperimentando eh ma figurati non avevo dubbi guarda tanto sta arrivando sì eccolo sta arrivando col naghi sta arrivando col naghi eccolo qua si vede facilmente riconoscibile bravo 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 col naghi Pietro col naghi davvero una buona prova un buon distacco importante però l'ha portata l'ha portata a termine lui la porta è leggermente più sofferente rispetto al nostro amico austriaco non è malaccio dai adesso vabbè che adesso è carico guarda l'applauso della gente eccolo qui col naghi che va secondo a chiudere in seconda posizione segno della croce saluta un amico taglia il traguardo secondo posto per col naghi l'ho anche intervistato ha il microfono di Ivo Casorati che c'è già lo sta già lo sta già prendendo vai pure Ivo vai pure con le interviste siamo ancora in fase di preparazione e allora siamo qui con il secondo classificato della sport del lago maggiore marathon Pietro col naghi ti diamo un po' faticato ma l'occhio l'occhio è bello il 32esimo mi sono fatto un goccio di birra ma ho dato una mano ho avuto un po' di crisi perché ho corso tutto da solo però diciamo che è stato bello nell'intesto della maratona trovare gente che poi mi conosce non mi conosce ci tifavamo forse è stato veramente un aiuto se no oggi era dura perché il caldo ha fatto un po' la sua quando poi non hai 42 nelle gambe ma ne hai solo 30-35 gli ultimi 5 c'è da soffrire il tempo sono contento davanti erano molto più forti adesso non so mi sa che uno gli ha fatto la lepre mi ha detto che era secondo e ho detto vabbè niente sono con il secondo qua cosa vuoi di più va bene la bellissima maratona sono contento vado a salutare la mamma ciao ritornerai? certamente grazie ancora Pietro col naghi che va a salutare la mamma vado a salutare guardala qua che bella questa immagine figlio di mamma la mamma è sempre la mamma come si dice in questi in questi casi viene indossata la medaglia dell'atleta che ha concluso la prova e dunque Cristiano Robin adesso siamo in attesa del terzo che è una sorpresa per Ivo Ivo con la mamma la mamma di Pietro col naghi signora mi sembra molto contenta e lo è giustamente per il risultato di suo figlio sì sì moltissimo molto molto ma lei lo segue durante tutte le gare? quando non viene la moglie oggi aveva dei problemi porto la mamma sono vedo sempre a casa lago maggiore mi piace mi ha portato sì è vero e ha anche portato fortuna signora sì meno male allora ringraziamo anche la mamma di Pietro col naghi grazie a lei signora io ripasso la parola Davide eccoci qua eccoci qua ci ripasso la parola il lago maggiore mi piace non c'è la moglie sono contenta evviva siamo tutti felici siamo veramente tutti felici di questa di questa riuscita del secondo posto di col naghi comunque si glielo confermiamo il primo ha avuto una lepre molto interessante un bel aiuto 35 chilometri da lepre non è male non sembra ma devi sempre allora la corsa non è come nel ciclismo che si sfrutta la scia nel ciclismo sappiamo benissimo che se tu sei nella pancia del gruppo che va a 45-50 all'ora tutti i metri ti fai portare pochissima fatica in atletica non è così e soprattutto importante a livello mentale perché tu non devi pensare a niente devi soltanto seguire le scarpe di chi sta davanti non sembra è un aiuto psicologico molto importante poi correre devi correre lì la scia non esiste e appunto tu hai tirato in ballo una situazione molto interessante adesso andiamo sicuramente a sviscerarla la tenuta mentale è importante la tenuta mentale è fondamentale si vince anche di testa oltre che di gambe sì 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 no no diciamo che la testa in gare di queste tipo tanto sta arrivando sta arrivando il terzo classificato eccolo qui vediamo se riesco a riconoscere sembrerebbe Gabriele Blardone però non ne sono ancora sicuro mi sembrerebbe mi sembrerebbe Blardone e lui è lui eh sì dalla corsa è lui 76 Gabriele Blardone che va a chiudere in terza posizione quindi allegria abbiamo anche l'atleta della zona sul podio è bella 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 dovrà anche ringraziarmi perché fino a poche settimane fa non correva e l'ha aiutato a essere al via nelle condizioni accettabile su questa maratona Gabriele Blardone dunque al terzo posto Robin Colnaghi Blardone eccola qui che si va a comporre bravo bravo Gabriele Blardone che taglia il traguardo al terzo posto quindi non sappiamo il tempo però è dai 2,40 2,42 e roba del genere sì dovremmo essere su 2,42 vedendolo da lontano però sembrerebbe sembrerebbe così tra poco arriverà anche Ivo Casorati a intervistarlo ecco le medaglie che vengono messe al collo degli atleti i podi li abbiamo praticamente conclusi adesso mancano le donne mancano le donne che siamo un po' all'oscuro una sorpresa anche per noi come per i telespettatori e anche per i telespettatori Ivo noi siamo qui con Gabriele Blardone sul podio di questa Sporto e Lago Maggiore Marathon immagino che per te sia una grande soddisfazione sì una grandissima soddisfazione non pensavo di partecipare oggi solo all'ultimo l'ultima settimana ho deciso mi hanno convinto un saluto a Danilo e il mio oh bambino bambino che arriverà ad aprile un bacio un abbraccio a tutti percorso fantastico temperature prima parte abbastanza buona poi i finali gli ultimi dieci da morire adesso niente ci godiamo questo podio grazie a tutti vogliamo solo sapere un'altra cosa hai già deciso il nome? avete già deciso il nome? no visto che oggi sono contento della mia performance deciderò poi a tavola con i miei compagni risa grazie ancora Gabriele Blardone noi lo aspettiamo poi per le premiazioni e io ripasso la parola a Gianluca eccoci qua grazie grazie quindi oggi Gabriele Blardone anche lui Genzianella quindi Genzianella l'ha fatto bambassa oggi grande festa grande festa pasta e a nastro come dici tu tra l'altro abbiamo visto anche qui che è passata nella nostra zona il sindaco di Verbagna che sappiamo che è una nota podista la Silvia a corso mi pare non so su che distanza si è cimentata però la conosco che è valida valida sì 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 è una valida amministratrice e valida podista sì sicuramente dal punto di vista sportivo è capitato di vederla più volte più volte gareggiare intanto questi sono altri altri arrivi di questa Lago Maggiore Marathon che però è giunta all'epilogo con la vittoria di Christian Robin secondo posto per Pietro Colnaghi terzo posto per Gabriele Blardone Ennio Frassetti ha vinto la 33 km per quel che riguarda la maschile davanti a Luca Valenti e Marco Cattaneo poi Claudia Gelsomino campionessa italiana di Maratona ha vinto la 33 km femminile davanti a Silvi Tramoi e Antonella Panza Ivan Bressanelli ha invece vinto la gara di mezza maratona che si è conclusa in quel di Stresa certamente adesso vediamo che stanno arrivando tutti un po' tutti un po' sfilacciati questi chi sono ancora quasi della 33 crediamo Claudicanti anche Claudicanti adesso chiaramente la la fatica si fa sentire perché questi atleti hanno comunque corso o 33 o 42 km quindi insomma sicuramente lo sforzo lo sforzo è evidente lo sforzo è è alquanto è alquanto importante e e necessita di un di un di un intervento tra le altre cose tra le altre cose è anche funzionante un servizio massaggi che avesse bisogno qui sul traguardo poco lontano dalla nostra postazione ci sono dei massaggiatori professionisti che si prendono cura delle gambette degli degli atleti importante anche il massaggio no? post gara certamente lo chiedi a me che lo faccio di professione quindi certamente per il recupero anche anche come prevenzione di certi infortuni comunque è molto importante sono anche degli aspetti che sembrano delle piccolezze ma che non vanno trascurati che non vanno trascurati come detto in precedenza l'uso della scarpa giusta del plantare giusto si va a evitare l'infortunio che poi può essere più grave del previsto inoltre continuano ad arrivare altri atleti sul traguardo con i bambini guarda che bello bellissimo questa è una bellissima immagine certamente queste sono immagini veramente veramente belle di 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 quello che è di quello che è di quello che è le aspettiamo sui 500 metri oggi con i due ragazzini ah i ragazzini le aspettiamo sui 500 metri o magari anche sui 2 km perché no? perché aiutereste le associazioni benefiche che peraltro hanno tutti gli stand qui in 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 zona arrivo con la la possibilità di essere aiutati praticamente ogni associazione ogni associazione devolverà la sport promotion devolverà 2 euro a queste associazioni per ogni per ogni partecipante le ricordiamo ancora la fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica l'associazione veronica argento onlus a isla associazione italiana contro la sclerosi laterale amiotrofica la slà la famigerata slà doctor clown vco gli amici del cuore vco il progetto rebecca la fondazione la fondazione tonolli la abio associazione bambini in ospedale e la scuola materna don bosco di villadosso la continuano gli arrivi sono sempre di più gli arrivi adesso davvero tra poco tra tra la 33 e la maratona e anche le staffette arriva una fumana di gente i 2331 atleti che abbiamo visto partire questa mattina alle 9 sempre qua dal lungo lago di verbagna non qui dove c'era l'arrivo un 300-400 metri più indietro nel largo tonolli ma sicuramente la zona era era questa la zona di partenza e arrivo della lago maggiore maraton cos'è non è un ufo tranquilli non siamo invasi dagli alieni è un drone questo è un drone per le riprese fotografiche e dall'alto adesso non si usano più un elicone adesso c'è il drone uno sotto con il joystick a far andare la macchinetta vola e fa e fa delle riprese delle riprese sicuramente di ottima fattura oramai a tecnologia i sistemi i sistemi moderni sistemi moderni adesso addirittura ci sono i telefonini che si portano come un orologio va bene che nei film che vedevamo da piccoli c'erano già però però adesso sicuramente la tecnologia sta facendo passi più che da gigante lago maggiore maraton le fasi lago maggiore maraton sta facendo passi da gigante io direi qui stanno facendo anni di quei passi guarda gli atleti che sono in gara che non li immagini nemmeno ed è comunque bello andare a ricordare che il vincitore è austriaco Cristian Robin davanti a Pietro con il naghi Ivo 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 ora siamo qui con una bella sorpresa con il vincitore della mezza maratona della all'interno corsa all'interno della Sportway Lago Maggiore Marathon Ivan Bressanelli di Brescia che è arrivato primo sul tregato di Stresa quindi è qui con noi gli facciamo un grandissimo applauso e gli chiediamo come è andata la sua gara direi bene visto che hai vinto sì direi benino sono reduce da una bella mezza due domeniche fa con un tempo un po' più basso però bel percorso impegnativo e quindi sono contento L'hai corsa in preparazione di qualche maratona o tu sei un mezzo maratonita? Di solito faccio sempre la maratona autunnale quest'anno dopo dieci anni ho detto no riposo e sto accorciando al contrario di qualche mio coetaneo però mi sto trovando meglio mi sento meglio fisicamente bene farò l'anno prossimo qualcosa credo Milano o Brescia oppure qua l'anno prossimo la maratona esatto noi ti aspettiamo alla maratona del Lago Maggiore l'anno prossimo ancora grazie Ivan Abressanelli da Brescia il vincitore della mezza maratona di questa quarta edizione a Sporto il Lago Maggiore Marathon ecco grazie Ivo speriamo di averlo qua sicuramente a Milano a Brescia poi però vieni a fare anche la LMM la Lago Maggiore Marathon che è sponsorizzata da Sportway no? sì lo Sporto è il maggiore main sponsor si dice così si dice così beh contento benino hai vinto quindi insomma non sono mai contenti questi atleti trovano sempre ha sempre qualcosa da dire chiaramente adesso stiamo scherzando perché ognuno magari ha un obiettivo quello di battere al primo tempo non l'ha fatto però intanto hai tagliato il traguardo per primo in quel distresa goditi questa vittoria male non è andata ecco diciamo così andare sempre no? poteva andarti peggio esatto cosa dici Mauro? per cui cosa dire di questi atleti mai contenti intanto continuano ad arrivare altri atleti tu hai magari mai avuto modo di correre una gara come questa una mezza maratona una 33 km in preparazione di un'altra di un'altra gara magari più importante a cui tenevi molto no beh a parte che vabbè io di maratone ne ho fatte solo ne ho fatte solo due nella mia nella mia carriera e entrambe finite in maniera non così in spinta come come il nostro austriaco correndo le più veloci di lui però non così in spinta ecco vedi che ti sei subito io vado meglio però giustamente hai voluto dare un po' del tuo fai bene fai benissimo beh non è anche in maratona non mi sono espresso su dei livelli che forse potevo esprimermi ho fatto 2,19 52 di personale però rapportato alla mezza è un po' scarso eccolo diciamolo così diciamo che rapportato alla mezza non è benissimo per quello che dico che la maratona è una gara non so è una gara più particolare è una gara a sé non sono quello sicuramente però sì maratone ho fatto solo due per cui forse i miei tempi non c'erano delle gare da 33 come c'è oggi qua che facevi come preparazione questa è una bella idea però inserire una 33 km nel contesto di una maratona che può intanto ti permette di portare gente intanto sta arrivando la prima donna mi dicono eccola qui noi dovremmo andare a vederla eccola qua la prima delle ragazze in gara quindi insomma direi in un tempo quasi intorno alle tre ore siamo intorno alle tre ore sì 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 siamo intorno alle tre ore quindi minuto più minuto meno siamo intorno alle tre ore la prima donna che sta arrivando sul traguardo la andiamo ad applaudire è quella con la maglia azzurra forse sì la maglia azzurra il pettorale è giallo andiamo a vedere di capire numero 15 questa è la staffetta questa è la piana però mi sembra che sia una staffetta eh sì questa è Michela Piana è Michela Piana che ha corso con Fasolo quindi complimenti a lei prima staffetta eccola qua Michela Piana che va a tagliare il traguardo e come ti sembra? mi sembra oramai anche lei una diciamo che è la migliore interprete della nostra zona la migliore interprete donna della nostra zona oramai qualsiasi cosa apre i giornali fratelli Piana i fratelli Piana i fratelli Piana i fratelli Piana però dobbiamo dire che questa coppia Fasolo Piana sta dominando tutte le staffette sta andando bene si sta andando veramente molto bene adesso attendiamo il momento in cui sicuramente il buon Ivo Casorati ce la porta eccolo qua al microfono siamo con Michela Piana che ha appena concluso la propria prova lei ha fatto la prova in staffetta in compagnia di Alfredo Fasolo ormai una coppia assodata visto che avete già vinto anche la maratona della Valintrasca oggi hai voluto esserci anche tu a questa grande festa sì anch'io ci tenevo tanto poter partecipare e l'ho voluta fare con il mio socio con il mio compagno d'avventure è stato dura con questo caldo correre questi 21 km guarda stamattina sinceramente avevo freddo poi man mano che i km aumentavano sempre più caldo però vabbè meno male che è bel tempo quando ti vedremo a fare la maratona invece? magari l'anno prossimo allora ti aspettiamo l'anno prossimo alla Lago Maggiore Marathon grazie ancora Michela Piana abbiamo avuto una news caro abbiamo avuto una news abbiamo avuto anche per carità una sorta di Paolini che ogni immagine è dietro io sto facendo sto dando un'occhiata anche a quello c'è la stessa persona dietro ogni intervista c'è l'occhio attento l'occhio attento del cronista non manca mai vabbè questa chiaramente è una situazione anacronistica la notizia è che la Piana fa la maratona la Piana fa la maratona ok quindi la vedremo il prossimo anno impegnata qua obbligatoriamente a quanto pare a quanto pare la vedremo impegnata la vedremo impegnata anche c'è la promessa ai nostri microfoni eh sì adesso non ti puoi più ritirare se hai detto se hai detto così quindi comunque Piana fa solo abbiamo anche i vincitori della della così della gara in staffetta quindi con i vincitori ci siamo Bressanelli la mezza Frassetti la 33 la Gelsomino la 33 femminile Christian Robin la maratona Fasolo Piana hanno vinto la staffetta con i vincitori ci siamo non abbiamo il vincitore donna della mezza maratona quella ci manca sì che c'è la mezza maratona non ce l'abbiamo ancora non ce l'abbiamo ma dovrebbe dovrebbe arrivarci anche perché poi non l'abbiamo non l'abbiamo viste ma adesso noi chiaramente siamo in attesa di avere la prima donna prima della classifica generale della 42 del clou della giornata della maratona quindi certo tra poco ci dovremmo essere tra poco ci dovremmo essere siamo intorno alle 12 quindi siamo in diretta già da più di tre ore due ore 55 42 siamo siamo sulle tre ore io penso che con la prima donna ci siamo questa è un'altra ragazza che va a chiudere e lei e lei e lei la prima questa ciclamino mi sa si è una delle 33 si 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 è una delle 33 quindi noi abbiamo secondo me ancora un pochino presto secondo me cosa prevedi un tempo non so chi è che sinceramente non ho non ho idea di chi di chi possa essere ad avere il tempo accreditato migliore è una sorpresa poi quando arriviamo celebreremo celebreremo lei come come vincitrice se magari Paolo Ottone fosse in ascolto magari ecco potrebbe dare qualche notizia in più potremmo avere la conferma adesso andiamo con la pubblicità poi torneremo qui in diretta dal lungo lago di parlanza Lago Maggiore Marathon quarta edizione a tra poco 19 ottobre 2014 Quarta Sportway Lago Maggiore Marathon 42 km di emozioni tra Verbagna e Estresa gara podistica internazionale su diverse distanze sport expo e corse non competitive sul lungo lago di Verbagna per passare un pomeriggio di festa e sostenere i nostri progetti benefici diventa protagonista anche tu dell'evento sportivo più importante della provincia Info su www.lagomaggioremarathon.it Diretta lungo lago di pallanza dove stiamo per trasmettervi in telecronica diretta integrale ed esclusiva la quarta edizione della Lago Maggiore Marathon evento organizzato dalla Sport & Promotion di Paolo Ottone non sarò solo chiaramente eccoci qua per di Paolo Ottone Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 è l'atleta che partecipa alla prova di maratona intanto taglia il traguardo complimenti a lei andiamo subito a vedere il nome dell'atleta vincitrice della maratona 1016 è il suo numero di gara eccola qua è Simona Giuliani prima classificata vincitrice Simona Giuliani dell'Azzurra Garbagnate vai pure Ivo con l'intervista Simona Giuliani siamo qui con Simona Giuliani la vincitrice della quarta edizione della Sporto e Lago Maggiore Marathon da Garbagnate mi diceva quindi sei qui di qui vicino però immagino che comunque sia una grandissima soddisfazione vincere una maratona sì infatti penso che sia la prima e l'ultima che vincerò però molto contenta e niente non ho altro da dire come hai trovato il percorso? ti faccio le domande io sì l'ho già fatto ho fatto sia mezza che maratona per cui percorso veloce anche se è movimentato quindi comunque mi sono divertita anche gli ultimi chilometri con questo caldo come sono stati? li ho tollerati non soffro fortunatamente il caldo soffro molto di più il freddo mi sembra che tutti sia saputa gestire benissimo quindi ancora complimenti a Simona Giuliani ci vediamo alle 12.30 per le premiazioni grazie ancora beh è brava mi sono divertita quindi è una bella cosa no? sì è bellissima è una bellissima cosa il fatto che poi si siano divertiti è quello il bello il capire che si tratta di una uno sport che poi fa tanto 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 divertimento si divertono molto gli atleti ci siamo divertiti anche noi commentarli da questa mattina alle 9 tre ore che siamo in diretta se va sì no volano via noi andremo a chiudere questa telecronica proprio con le premiazioni ma adesso attendiamo l'arrivo della seconda della terza atleta classificata della maratona è stato Paolo Ottone in diretta bravissima dobbiamo dargli una comunicazione brutta e noi Davide scusa siamo qui con Paolo Ottone presidente del sport promotion sembra che la stiamo portando a casa anche anche quest'oggi Paolo bella giornata direi che ha fatto tanto come al solito sì alla fine visto era un po' coperto stamattina ma credo che alla fine non abbia fatto male per la prima parte di gara un po' di più adesso speriamo non scaldi troppo ma non credo che aumenterà più di così quindi no la giornata è assolutamente molto migliore di quella dell'anno scorso ovvio e le tue prime sensazioni proprio dal punto di vista organizzativo come sono? ma sicuramente dobbiamo sistemare il percorso della 33 oppure l'orario di partenza della 33 perché va sistemato nel senso che se cresci quella gara diventa più ingombrante quindi dobbiamo sistemarla però diciamo l'impressione generale molto buona sul percorso è stato chiuso al traffico molto molto bene direi i volontari erano preparati ai punti di ristoro pronti per accogliere tutti quelli che hanno fatto la mezza la 33 ma soprattutto i maratonetti e qui credo che stia andando abbastanza bene come al solito poi aspettiamo che arrivi l'ultimo maratonetta alle 5 ore e mezza poi vediamo sembrava che in un ristoro ci fosse anche un punto con qualcosa di diverso da solito ovvero della birra è vero questa notizia? ma mi hanno detto mi hanno riferito ma ti devo dire la verità non ho visto dove mi hanno detto ma non ti posso né confermare né smentire comunque immagino che sei stata gradita anche dai partecipanti perché a tutti piace anche un buon bicchiere di birra allora ringraziamo Paolo Ottone poi lo sentiremo ancora magari nel proseguio e noi lasciamo speriamo che in questo ristoro con la birra non se ne sia accorto il buon Alfredo Fasolo perché è un birraio non avrebbe lasciato assolutamente nulla a tutti gli altri mi piace sta cosa perché uno sta correndo alla maratona si ferma scusami dai una birretta è molto carina invece di trovare i sali i ciucciotti come dicevi prima adesso c'è la birretta e questa è la cosa al termine della gara non più antidoping ma alcol test alcol test so piano chi sa le patenti che restano qua dopo possiamo veramente metterla così allora caro caro Mauretto caro Mauretto Bernardini ha vinto Simona Giuliani Garbagnate come quel Marco Cattaneo che è arrivato terzo nel 33 andiamo un pochino a riassumere quello che è successo in questa lunga mattinata di atletica di podismo con Ivan Bressanelli che ha vinto la mezza maratona numero 6041 con partenza da Verbagna e arrivo in quella di Stresa poi la 33 km partenza e arrivo a Verbagna primo Ennio Frassetti della Genzia Anella come il secondo Luca Valenti terzo Marco Cattaneo del Garbagnate per quel che riguarda la 33 km femminile prima Claudia Gelsomino che è campionessa italiana di maratona seconda Silvia Tramoi del Villac austriaca terza Antonella Panza per quel che riguarda la staffetta primi Fasolo e Piana per quel che riguarda la maratona vera e propria 42 km 195 metri primo posto per Christian Robin austriaco molto ben tirato dalla lepre Roman Wenger secondo posto per Pietro Connaghi terzo posto per Blardone noi dopo questo di assunto ci lasciamo per un attimo di pubblicità poi torneremo in diretta dal lungo lago di Virbagna per andare a concludere questa bellissima giornata con la quarta edizione della Lago Maggiore Marathon a tra pochissimo non lasciateci 19 ottobre 2014 quarta sport e il Lago Maggiore Marathon 42 km di emozioni tra Verbagna e Estresa gara podistica internazionale su diverse distanze sport expo e corse non competitive sul lungo lago di Verbagna per passare un pomeriggio di festa e sostenere i nostri progetti benefici diventa protagonista anche tu dell'evento sportivo più importante della provincia info su www.lagomaggiore.it 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 ancora nelle fasi conclusive le battute finali di questa lunga diretta da Verbagna per la Maratona del Lago Maggiore Ivo Casorati Ed eccoci qui con due assessori alla Comune di Verbagna Monica Abbiati assessore al turismo e Damiano Tradigo assessore alla viabilità partiamo dall'argomento magari più simpatico il turismo sembra che sotto questo punto di vista per Verbagna non solo per Verbagna ma per l'intero tragitto toccato dalla Lago Maggiore Marathon è stata una grandissima giornata è anche una grande opportunità e poi abbiamo il sole, cosa che in tutta l'estate non abbiamo avuto quindi dovremo fare più spesso iniziative come queste per garantirci il bel tempo e la gente ci proveremo Damiano Tradigo invece era impegnato un pochino dal punto di vista operativo in quanto assessore alla viabilità sembra che però dalle notizie che abbiamo avuto fino adesso stia andando tutto abbastanza bene o no? Sì, buongiorno a tutti direi che al momento problemi non ce ne sono stati è stata una faticata abbiamo circa un'ottantina di volontari della protezione civile sul percorso comunale non ci sono segnalazioni rilevanti è andato tutto bene dal punto di vista organizzativo siamo molto felici anche come diceva Monica che è arrivato anche il sole quindi una buona giornata a tutti grazie a Monica Biatti e Damiano Tradigo ci vediamo poi per le premiazioni intanto noi abbiamo visto arrivare già alcuni pacemaker beh io lo ripeto l'abbiamo già detto durante questa telecorona quando tu senti un atleta che finisce e dice il posto è favoloso io qua ci vengo a fare le vacanze penso che dal punto di vista turistico hai ottenuto l'obiettivo la promozione del territorio perfetto, uno più uno fa due meglio di così davvero meglio di così non si poteva non si poteva non si poteva chiedere esattamente questi sono momenti belli i passaggi Ivo, Ivo, Ivo a te con Sara Emile P spero di averlo pronunciato giusto seconda classificata di questa Sporto del Lago Maggiore Marathon ti vediamo piuttosto affaticata ma immagino che la soddisfazione sia pari se non superiore alla fatica l'altra maratonetta la dico bella gara bella giornata tutto perfetto un bellissimo sorriso per Sara qual è stato il momento più difficile della tua gara se ce n'è stato uno e quanto è inciso il caldo sulla tua prestazione complessiva ma è stato difficile dal trentesimo in poi forse è un partito un po' troppo veloce succede va bene così ti aspettiamo allora per le premiazioni intorno alle 12.30 quindi tra poco grazie ancora a Sara Emile P e noi proseguiamo con gli arrivi qui in piazza Sara Emile P dunque che è andata al secondo posto e anche lei ha portato a termine bene dalle immagini in diretta sembra che anche la terza sia giunta al traguardo però non sono riuscito a capire il numero e se è arrivata il buon Ivo ce la porta sicuramente in cabina di commento noi stiamo andando intanto a cercare il numero di gara dell'atleta che ha chiuso in terza posizione e che ha fatto sicuramente una prova molto molto interessante Sara Emile P ancora immagini che arrivano sempre in diretta da Verbagna sempre in diretta da Verbagna minutamente volevo sottolineare questa cosa per confermare la bontà di questa maratona nel senso che la settimana scorsa o due settimane fa si è svolta la maratona Carpi una mitica maratona e il vincitore è stato in 2 ore e 41 il vincitore della prova maschile quindi qua a Verbagna oggi senza andare ad invitare i top atleti si sono presentate gente che accorre in 2 ore e 25 con una partecipazione superiore dopo solo 4 edizioni conferma il buonismo ancora una volta se c'è bisogno di sottolinearlo della manifestazione sì no ma la manifestazione la manifestazione sicuramente prende perché comunque 2331 con uno sbarramento di iscritti sicuramente è stata di grandissima importanza sono numeri sicuramente positivi quindi vanno fatti complimenti all'organizzazione perché ha portato qui sicuramente una manifestazione di grande impatto e si è sentita anche la soddisfazione da parte degli assessori tra i guabbiati che si sono detti soddisfatti sono manifestazioni che devono continuare lo spettacolo deve continuare devono avere il patrocinio delle varie istituzioni questo è sicuramente è fondamentale è assolutamente fondamentale avere il patrocinio delle varie istituzioni perché altrimenti diventa molto molto complicata andare a concludere la situazione quindi bene per quel che riguarda questa manifestazione che continua e che continuerà gli arrivi ci saranno fino alle 14.30 tra poco le cerimonie di premiazione intanto altri atleti e atlete che stanno andando a concludere la loro prova quindi bene, brave, brave e bravi circa i 700 maratoneti che si sono presi al via maratoneti, maratoneti 609 609 maratoneti che sono partiti questa mattina alle 9 da Verbania e adesso stanno per andare o andranno a concludere la loro bella avventura quindi davvero ottimo per anche per anche per loro dicevamo quanto ci vuole per il fisico a recuperare un impegno quanto riposo ci vuole quando ci si può riallenare come ci si allena nei giorni successivi sicuramente la maratona la devi recuperare come minimo un mesetto di relax ci vuole addirittura? sì così tanto? beh al fisico gli devi dare il recupero perché altrimenti se lo prende lui con i vari infortuni e poi la paghi con i vari e la maratona è un impegno veramente grosso sotto il punto tutto il punto di vista sia organico sia articolare muscolare c'è la distruzione di fibre muscolare importante durante le due ore e mezza tre ore tre ore e mezza di corsa per cui non va trascurato il recupero molto importante come l'allenamento prima della maratona insomma non trascuriamo neanche il nostro di recupero pubblicità e poi ci ritroviamo per concludere la diretta della Lago Maggiore Marathon a tra poco 19 ottobre 2014 quarta sport è il Lago Maggiore Marathon 42 chilometri di emozioni tra Berbani e Estresa gara fodistica internazionale su diverse distanze sport expo e corse non competitive sul lungo lago di Berbani per passare un pomeriggio di festa e sostenere i nostri progetti benefici diventa protagonista anche tu dell'evento sportivo più importante della provincia info su www.lagomaggioremarathon.it di pallanza dove stiamo per trasmettervi in telecronica diretta integrale ed esclusiva la quarta edizione della Lago Maggiore Marathon evento organizzato dalla sport e promotion di Paolo Ottone non sarò solo chiaramente eccoci qua per per la Lago Maggiore Marathon a Berbani e Estresa in corso Cairoli 68 in onda di auto e anche offizina senza specializzare in onda e eccoci in onda con la Lago Maggiore Marathon avremo modo di andare a rivedere alcuni arrivi per quel che riguarda questa gara di oggi alcune delle gare di oggi ecco qui la conclusione del vincitore della Lago Maggiore Marathon Christian Robin austriaco a corso tirato per 35 km dalla lepre Roman Wenger numero 57 però poi al km 35 l'altro si è fermato lui è andato all'arrivo e l'ha dominata in poche parole l'hanno dominata l'hanno sì hanno letteralmente dominata fin dai primi metri quindi è giusto che abbia avuto questo degno arrivo sul lungolago di Pallanza un arrivo veramente di grandissimo impatto eccolo qua in slow-mo come si dice in gergo tecnico la conclusione della prova di Christian Robin il vincitore del Lago Maggiore Marathon 2014 per lui una prova sicuramente significativa perché appunto l'ha portata dominata la corsa in una maniera molto interessante con la lepre ma sicuramente poi la vittoria è sua ecco lo qua anche senza lepre l'avrebbe dominata penso di sì in qualsiasi caso magari con un tempo leggermente più pesante ma però ha fatto bene eccolo qua che taglia traguardo Christian Robin ha vinto la Lago Maggiore Marathon 2014 con le immagini ora sicuramente ecco qua arriva Paolo Ottone c'è il momento in cui si danno la stretta di mano noi ora andremo con le immagini sul vincitore della 33 chilometri tra poco vedremo che è un atleta della zona che tu conosci bene si tratta chiaramente di Ennio Frassetti le immagini sta per arrivare eccolo qua sempre scortato dalla macchina segnatempo e da Paolo Ottone Ennio Frassetti anche lui diciamo che la corsa dà giù il cappello veramente ha imposto un ritmo troppo elevato per tutti i suoi avversari per cui è andato a prendersi meritatamente a questa vittoria una vittoria più che positiva per Frassetti che ha vinto davanti a Luca Valenti quindi doppietta per la Genzianella al terzo posto Marco Cataneo del Garpagnate in precedenza Robin ha preceduto col Naghi e Gabriele Blardone ecco l'arrivo di Ennio Frassetti che tra gli applausi della gente ha vinto la 33 chilometri questa novità del percorso inserita nel contesto della quarta Lago Maggiore Marathon con la partenza da Verbagna al giro di Boat tra Bavone e Stresa e l'arrivo a Verbagna dove appunto ha dominato tra gli applausi il buon Ennio Frassetti che taglia il traguardo della Sportway Lago Maggiore Marathon la gara sui 33 chilometri di distanza che abbiamo detto è questa bella novità direi che è piaciuta molto agli atleti questa novità quindi credo che sarà riproposta sicuramente anche in futuro come già forse ci diceva prima Paolo 642 i partenti ed eccolo qua il buon Frassetti che taglia il traguardo per primo ha vinto la sua prova sui 33 chilometri e davvero ha meritato applausi per il modo in cui lo ha fatto per il modo in cui ha vinto questa manifestazione stiamo un pochino riassumendo tutto quello che è successo in questa mattinata con la Lago Maggiore Marathon e Nio Frassetti applausi per l'ossolano sicuramente è ossolano e l'applauso per come ha portato a conclusione questa sua prova di oggi stanno passando davanti alla nostra postazione anche i vincitori della staffetta tanto guarda che belle immagini queste qui sono le immagini della partenza c'è anche Paolo Ottone che sta gironzolando qui nella nostra zona e lo salutiamo di persona visto che viene anche a stringerti la mano no vieni pure guarda siamo in diretta ma anche se entri dentro ti abbassi un pochettino e riusciamo guarda passa dietro eccolo qua ti abbassi un pochettino e riesci a farti vedere eccolo qui Paolo Ottone ciao Paolo complimenti per come puoi parlare qua guarda per come ti abbiamo disturbato ah no no non mi ha disturbato è che quando segui magari devi anche seguire discorsi legati alla viabilità no no ma immagino 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 assolutamente grazie davvero a te Paolo è stato bello anche commentare questa questa maratona grazie a Paolo Ottone anche passato dalle nostre dalle nostre zone abbiamo visto intanto c'erano state mandate le immagini della della partenza che c'erano state date ecco qui intanto noi rivediamo l'arrivo invece della prima donna in questo caso che è Simona Giuliani anche lei della formazione del Garbagnate bene ragazza che è arrivata in prima posizione davanti a Sara MLP e che comunque ha vinto in maniera autoritaria autoritaria con ampio distacco un bel margine anche la situazione eccola qui che taglia il traguardo seguita dalle telecamere seguita da Paolo Ottone sicuramente saranno momenti che non dimenticherà no 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 l'hai detto prima sono veramente momenti di una grande di una grande intensità emotiva di una grande intensità anche sicuramente fisica tagliare il traguardo strappare dalle mani delle ragazzine che la tengono la fettuccia d'arrivo è molto molto bello molto molto ripagante ripagante anche perché insomma sono cose belle queste sono immagini che se non vado errato ci arrivano in diretta sempre dal lungolago di Pallanza dove appunto ci sono ci sono gli arrivi dei maratoneti ancora degli atleti che stanno invece andando a concludere la 33 chilometri è un'altra bella immagine che arriva dall'alto dal cielo diciamo così del lungolago di Pallanza piazza Garibaldi dove si è conclusa dove si stanno concludendo gli arrivi dove continuano gli arrivi perché andranno avanti ancora per un due orette gli atleti che hanno partecipato alla Lago Maggiore Marathon sponsorizzata Sportway alla 33 chilometri e anche alla 21 più 21 staffetta ricordiamo poi che invece la mezza maratona alla 21 chilometri si è conclusa in quella distresa con la vittoria di Ivan Bressanelli atleta bresciano della Valcamonica che abbiamo sentito traiamo le conclusioni anche noi abbiamo fatto la maratona noi abbiamo fatto la maratona siamo contenti di averla fatta anche di più perché siamo andati avanti ben oltre le due ore e mezza ma va bene così tecnicamente non ci sono stati top atleti africani ma a mio modo di vedere è stata una gara tecnicamente molto valida secondo me è stato addirittura meglio così meglio così almeno abbiamo visto comunque una gara anche se i due austriaci sono partiti subito con un altro passo non li conoscevamo quindi anche con il Nike comunque fino a un certo punto era lì a 3-4 minuti che sulla maratona sembrano tanti ma se ti viene la crisi sono pochi quindi è stato noi stiamo stiamo comunque rivedendo sui commenti certamente l'avevamo visto alle immagini della partenza del Lago Maggiore Marathon stavamo appunto così concludendo traendo gli ultimi commenti dicevamo una validità tecnica molto importante perché comunque anche comunque vincere una maratona sotto le due ore e trenta è sempre un buon adesso questi chegnani che ci hanno abituato troppo bene su certi tempi sembra che sembra che correre in due ore e venti due ore e venticinque sia sia una cosa da sfigati diciamola così ma non è assolutamente così insomma purtroppo questi come ci dobbiamo ripetere fanno un altro sport rispetto a noi bianchi a noi europei a noi tanto di cappello a loro però è chiaro che la gara per lo spettacolo oggi è stato molto meglio così esatto la gara si limiterebbe a loro quattro queste sono belle immagini anche con alcuni passaggi in slow motion davvero molto carini che ci manda la nostra regia al passaggio da pallanza sono partiti in 2331 e qui lo ripeto possiamo andare a complimentarci ancora una volta con l'organizzazione perché non vengono per caso così tanti atleti se se non c'è una bontà tecnica e organizzativa dell'evento era mai la quarta quarta edizione quindi una manifestazione ancora giovane piano piano si limeranno un po' queste piccole sfumature che magari ancora ci possono essere e quindi non può che che portare ancora più persone io sono convinto che nel giro di qualche anno potrebbero arrivare al doppio e personalmente senza nulla togliere per carità la città di Arona che sicuramente ha accolto le prime due le prime tre edizioni le prime due edizioni pardon io credo che partenza e arrivo a Verbagna logisticamente sia molto più interessante fattibile funzionale sì no beh certamente da quel punto di vista lì c'è molto più molto più semplice diciamo gestire tutte le situazioni che si possono creare sia durante la gara sia durante il pre gara che il post gara insomma sia pre gara che il post gara i pacchi degli atleti gli indumenti i bag e tutto quanto sono già qui era più difficile farli arrivare da Arona a qui però vi ripeto è stato un percorso di una manifestazione che pian piano è cresciuta e che sicuramente lo ha detto anche Paolo Ottone l'abbiamo sentito in precedenza con i vocatorati ancora margini di crescita e di miglioramento ma da adesso si migliora sempre possono migliorare anche a New York per dire dove credo sia l'eccellenza la maratona più famosa più famosa al mondo da atleta credo che me lo possa confermare New York a parte le Olimpiadi per un atleta prima le Olimpiadi poi New York certamente poi le Olimpiadi sono una cosa una cosa a sé le belle immagini di questa mattina le belle immagini della conclusione della Lago Maggiore Marathon vinta da Christian Robin la piccola New York del Verbano Cusiossola una New Yorkina diciamo così la piccola New York del Verbano Cusiossola mi piace sicuramente a livello paesaggistico anche New York perché in realtà è fantastica l'arrivo in Central Park è qualcosa di favoloso però dal punto di vista paesaggistico è difficile fare concorrenza a questa gara perché una gara come la Milano Marathon la Maratona di Torino la stessa Maratona di Carpi e beh storia a go go storia fantastica però il lago e l'isemica ci sono voglio spezzare ancora di più una volta la lancia a favore della Lago Maggiore a Milano Marathon c'è ben poco c'è il Duomo se mi sentiranno mi tagliano il Duomo il Castello Sforzesco la partenza è da Rò la partenza è a Rò sì la partenza è fuori da una fiera fuori sulla superstrada non è che sia non è che costeggi il lago come qua no no poi per carità bisogna anche avere la fortuna di avere in Italia forse c'è Roma c'è Roma Roma arriva in Piazza del Colosseo no su via fuori imperiale però comunque fa aiutare il centro storico di Roma sì 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 Firenze Torino anche che è bella Venezia io l'avevo fatta forse una trenta di chilometri è bella però è bella solo quando arrivi alla fine è la particolarità di Venezia i ponti di barche per arrivare in San Marco gli ultimi dieci chilometri di Venezia sono fantastici ma prima prima è un ponte lungo da mestre quindi qua è dal primo metro all'ultimo quindi paesaggisticamente parlando non stiamo liaggi intorno la più bella è la Lago Maggiore Marathon e siamo contenti felicissimi in chiusura quasi in chiusura di questa diretta di dirlo che abbiamo commentato la maratona sul percorso più bello d'Italia il percorso più panoramico d'Italia è un percorso anche queste sono sempre immagini che si riferiscono alla partenza un percorso che ti permette anche tempi tempi interessanti per quel che riguarda Mauro la sport promotion prossimo appuntamento organizzativo si va al 2015 la Lago Maggiore Alf Marathon da Verbania a Stresa quasi sicuramente sarà così quasi sicuramente sarà così e questa la la mezza maratona oramai è una manifestazione già più anzianota quindi più consolidata più rodata e oramai anche lì il successo ha sempre dai 2-3 mila partenti anche anche la mezza oramai il successo di questa manifestazione è assodato per cui si sono già si sono già corse ben tante edizioni 1 2 3 4 5 6 7 sarà l'ottava edizione l'anno prossimo quindi è una manifestazione che pian piano va verso il decennale tanto noi rivediamo l'arrivo di Cristiano Robin che ha vinto la Lago Maggiore Marathon davanti a Pietro Colnaghi e a Gabriele Blardone davvero molto bravo il nostro Solano il nostro Solano che ha vinto ad arrivare al secondo posto noi andremo avanti ancora in questa diretta c'erano appena letto dalla regia anche non appena inizieranno le premiazioni Slow Motion per Cristian Robin che l'ha vinta davvero alla grande abbiamo già tessuto le lodi di questo atleta vogliamo tessere le lodi anche di Roman Wenger che lui al 35esimo chilometro si è fermato però gli ha fatto un lavoro da lepre che io definirei semplicemente eccezionale 35 chilometri l'ha proprio scortato diciamolo così ha proprio portato ha proprio portato fino a lì lo ha scortato sicuramente la maggiore età la maggiore esperienza del come si chiama hai detto il Roman Wenger Roman è stata di aiuto al più giovane connazionale i consigli Ennio Frassetti tuo amico Ennio Frassetti se vuoi commentarla tu insomma oramai l'abbiamo già commentata in tutte le salse vorrei solo ricordargli le paste mercoledì ecco ecco quindi qualcuno adesso basta non si può sempre esatto qualcuno che sta seguendo da casa la cronaca parenti di Ennio ricordino a Ennio che deve portare le paste e allenamento perché sennò il buon Mauretto Bernardini qua si arrabbia l'ha vinta bene l'ha vinta bene Ennio Frassetti ed è protagonista un pochino di tutte le nostre gare qua in zona sì quest'anno è stato uno dei protagonisti assoluti di tutto il circuito novarese del Verbano diverse vittorie ottimi piazzamenti e da questa già da febbraio marzo che è in pista che non sta mollando credo che combinerà la stagione appunto con la maratona di Torino tra un mesetto credo e poi anche lui si riposerà un pochino si riposerà un pochino e noi adesso andiamo invece su Simona Giuliani che tra poco vedremo rispuntare nella immagine registrata della sua conclusione Simona Giuliani che è andata a vincere la prova femminile della 42 km 195 metri la Lago Maggiore Marathon invece no ci mandano le immagini della partenza ma questo è il bello della diretta eccola qua la Giuliani bastava chiedere perfetta la nostra regia chiediti sarà dato l'immagine della Giuliani che ha vinto davanti a Sara MLP la seconda classificata di questa Lago Maggiore Marathon a livello chiaramente femminile sui 42 km 195 metri che è la distanza classica della maratona eccola qua la Giuliani seguita dalle nostre telecamere con Walter Cerutti che Walter Cerutti di stile corsa che ha ampiamente collaborato per la realizzazione di questa diretta ogni tanto arriva qualche pigna e qualche così diciamo foglia sulla nostra postazione Walter Cerutti di stile corsa di nome e non di fatto però non corre non corre ma di stile ah non ha stile ho capito corre senza stile vabbè questo ognuno ognuno fa quello che può fare ancora le immagini della Giuliani che è andata a vincere la sua prova alla Lago Maggiore la Lago Maggiore Marathon femminile e davvero è stato bellissimo rivedere tutte queste belle immagini il podio le immagini dal podio eccole ci siamo forse dovremmo esserci con le premiazioni appena la regia ci dà un accenno noi diamo la linea agli speaker per quel che riguarda le premiazioni speaker che di tutte le gare Ivo Casorati e Davide D'Acco Ivo Casorati Davide D'Acco e Pizzi a Stresa c'era Alberto Pizzi e non dimentichiamo la fattiva e collaborativa traduzione in inglese di Caner Rossi del British Institute che è fondamentale perché tante volte è difficile poi quando capita come qualche anno fa chi arriva al keniano che non sa manco dire una parola di inglese lì ti voglio perché devi interpretare e cercare e cercare di capire cosa abbia detto e sinceramente quell'anno lì ancora adesso non sappiamo cosa avesse detto il vincitore di quella edizione era una mezza però non era una maratona era una mezza maratona non avevamo capito sinceramente cosa avesse detto ma può capitare anche quello la traduzione è fondamentale ecco la traduzione è fondamentale anche perché ogni gara che si rispetti internazionale ha la traduttrice presente in loco e noi avevamo la buona Karen Karen Rossi che poi oltretutto adesso ti dico una cosa è anche una cantante perché insieme al fratello Alan fornama il gruppo dei Van Houtens e devo dire che sono bravissimi perché hanno una musica molto british l'ultimo disco Britallian si intitola ed è veramente fantastico c'è una canzone che si intitola Robert Downing Jr che è favolosa loro sono veramente molto bravi e quindi abbiamo anche avuto piacere a salutare i Van Houtens che sono che sono il complesso di cui fa parte Karen ascoltate i Van Houten vediamo ancora intanto altri arrivi che stanno per andare a fare da prologo all'inizio del cerimone di premiazione noi siamo quasi siamo quasi alla quarta ora di diretta ma non molliamo senza problemi staccano visti proprio sì 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 noi siamo staccano visti ci piace abbiamo fatto anche noi la maratona poi andremo a reintegrare anche l'acqua e non solo espletare qualche bisogno fisiologico diciamo così Mauretto però adesso ci siamo con le premiazioni erano previste alle 12.30 adesso tra poco dovremmo andare con le posso fare un piccolo escursus questo ragazzo con il 1211 è il mio insegnante di nuoto che è qui davanti a noi gli amici non lo possono vedere il mio insegnante di nuoto e io dovrò dargli qualche insegnamento di corsa perché lo vedo un po' arrivare un po' claudicante un po' claudicante però mi piacerebbe vedere come nuoti tu visto che tu dici che lui è clauditante voglio vedere come nuoti tu con questo stile libero ben ah io ho inventato il nuovo stile come è? stile cancello stile cancello questa poi me la spiegherai perché non ho intenzione praticamente vado a fondo ecco non ho intenzione di immaginare come possa essere lo stile cancello magari poi tra qualche anno sarà una specialità olimpica però adesso mi sa tanto di cosa abbastanza così abbastanza poco poco fattibile sempre con le immagini che vi giungono in diretta si inventano di tutto era mai tra un po' ci sanno le olimpiadi del retro running adesso il retro running? si non lo conosci? no adesso fanno gare il corsa all'indietro gare ma veramente gare anche maratone o mezzo maratone corsa all'indietro pensate che roba Ivo sono molto soddisfatta per la partecipazione per l'organizzazione per questa piazza così piena e per un progetto che valorizza Verbania ma non solo Verbania tutta la sponda del lago perché il nostro turismo si poggia sulla valorizzazione di tutto il lago non solo di una porzione quella del comune di Verbania grazie facciamo anche un applauso all'assessore al turismo Monica Biati intanto è arrivata anche la vincitrice Simona Giuliani manca solo Sara Aimelepe che preghiamo se qualcuno è in grado di contattarla ci farebbe una cortesia grazie se qualcuno ha il numero di Sara o magari anche qualcuno tramite gli amici di TDS queste erano le fasi diciamo le fasi preliminari che non si trovano mai gli attenti no è sempre così è sempre così le gare si certo chi sa dove vai a bere le birrette quando ci sono le gare di ciclismo viene detto in riunione i primi tre dopo l'arrivo sul podio qua è un po' più difficile perché le gare sono sicuramente altre e la cosa è sicuramente un pochino più laboriosa complicata però adesso ci siamo ci sarà il buon Ivo Casorati sul podio a effettuare la cerimonia di premiazione del Lago Maggiore Marathon buon Ivo Casorati che è impegnato da ieri come ieri al tre del Lago d'Orta e oggi qua la mezza Maratona del Lago e Maratona del Lago Maggiore avrà bisogno anche lui di un bel periodo di recupero penso di sì ma quello penso che ci sia per tutti un po' di recupero penso che ci sia per tutti perché non sembra ma anche preparare permettimi di fare un enorme 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 e lo dico ancora una volta enorme complimento ai nostri tecnici perché anche posare i ponti i cavi i cablaggi le fibreotti è un lavoraggio Ivo ecco qui Gabriele Blardone al terzo posto della Maratona grande Gabriele signori qua si parla di atleti di casa e quindi il tifo è molto molto caloroso due ore e quattro 41 minuti e 13 secondi di suo tempo quindi un'ottima prestazione un'ottima prestazione anche per il secondo classificato il grande Pietro che è anche un grande amico due ore 37 minuti e 0,6 secondi Pietro Colnaghi alle premiazioni per il Pietro Colnaghi abbiamo l'assessore del turismo sempre Monica Biati e per Veneto Banca abbiamo Pietro Giorzetti grande Pietro Colnaghi rappresentati quindi con Veneto Banca sponsor sponsor ufficiale della Sporto di Lago Maggiore Marathon 2014 salutiamo signori il vincitore con il tempo di due ore 28 minuti netti arriva dall'Austria Cristian Robin alle premiazioni abbiamo sempre Monica Biati dell'assessore del turismo a Verbagna e abbiamo amministratore unico di Sportway Davide Parodi ed ora a rappresentare quindi l'Austria l'inno dell'Austria grazie a tutti 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 Cristian Robin Pietro Colnaghi e Gabriele Barordone questo è il podio della Sporto di Lago Maggiore Marathon 2014 grazie a voi noi proseguiamo con le premiazioni al femminile li teniamo un attimo per le foto ufficiali dei vincitori sono stati dei grandi eroi quest'oggi perché hanno si può dire corso ognuno per conto suo bravi ragazzi le premiazioni proseguono dovremmo essere qua con tutte le tre atlete se manca la seconda noi iniziamo allora ringraziamo Pietro e tutti gli atleti rimani qua con noi allora siamo tornati noi intanto in commento Robin Colnaghi e Blardone abbiamo ascoltato anche l'inno austriaco è bello ma chi campiona lì io sono assolutamente un grande appassionato di lini nazionali l'inno nazionale ci sta sempre adesso spero di sentire anche quello italiano per il successo di Simona Giuliani della Lago Maggiore Marathon davanti dalla MLP quindi insomma eccolo qua Monica Pilla eccoci brava Monica Monica Pilla richiamiamo la consegna dei premi l'assessore quindi al turismo rimarrà qua con noi e il rappresentante di Veneto Banca Piero Giolzetti a premiare la seconda classificata le gareggia per l'atletica settimese tre ore quattordici e trentotto secondi in suo tempo Sara ahimè Lepe proseguiamo allora glielo faremo avere lo teniamo qua quando arriverà gli consegneremo i premi alla premiazione abbiamo comunque amministratore unico delegato Davide Parodi con l'assessore alle viabilità Damiano Traligo consegniamo il premio a Colè che oggi è arrivata prima un grande tempo tre ore cinque minuti cinquantasette secondi Simona Giuliani brava Simona ed eccola qua il podio il podio con la prima e la terza classificata virtualmente salutiamo anche Sara Lepe e con questo podio l'inno di Mameli grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti L'inno di Mameli è sicuramente molto suggestivo O la Maratona del Lago Maggiore O la Maratona del Lago Maggiore ed è stato bello sentirlo perché fino ad ora o era Etiopia o era Kenya Bene bene così Abbiamo variato un po' Abbiamo dato veramente un pizzico di internazionalità Sì molto diciamo europea Abbiamo europeizzato la Lago Maggiore Marathon con la vittoria di Christian Robin e Colnaghi In diretta Ecco qua I due vincitori I due vincitori Sì Questi sono Maschio e la donna Pasolo e Piana Che hanno vinto la prova di staffetta E hanno fatto in maniera importante Hanno vinto anche la Valle Entrasca Che è una corsa completamente diversa Con una corsa completamente diversa Si va in montagna 1500 metri di dislivello Sì Come minimo Poi quest'anno era un'edizione particolare con l'allungamento del percorso Perché era già Non era difficile Allunghiamolo Allunghiamolo ulteriormente Andiamo un pochino dunque a riassumere quello che è successo quest'oggi Con Ivan Bressanelli della Valcamonica Che ha vinto a Stresa la mezza maratona con partita da Verbagna Poi Ennio Frassetti davanti a Luca Valenti e Marco Cattaneo I primi due della Genzianella Il terzo delle Garbagnate E cinque secondi Luca Riva Ecco le premiazioni Che continuano Eccolo qua Terzo classificato Seconda posizione Chiamiamo Gabriele Blardone L'abbiamo visto prima Sul podio ufficiale della gara Grande Gabriele Alle premiazioni per Veneto Banca Abbiamo Piero Giolzetti E Monica Biati sempre con noi Stanno facendo step Monica Biati oggi Sì stanno facendo attività E invece Davide Parodi Consegnerà il premio al primo italiano Che è Pietro Colnaghi Eccolo qua Grande Pietro Grande Pietro Grande Pietro ma bravi ad entrambi A entrambi gli atleti Qua premiazione italiana Per i primi tre classificati Io farei ancora un grande applauso a loro Ma soprattutto un in bocca al lupo Per la stagione a venire Perché non pensate che siamo a fine anno E loro hanno finito di correre Nelle maratoni si inizia adesso Anzi non si ferma mai la corsa Quindi bravi ragazzi Prossima premiazione Sarà quella della classifica italiana Che non cambia da quello che è comunque La premiazione che abbiamo visto prima Allora noi in precedenza abbiamo detto una porcheria Non erano fasole piana Ma erano giustamente Vincitore maschile Vincitore maschile Vincitore femminile Quindi Robin e Giuliani Succede È il bello della diretta Anche in questo caso Si dice così Tra poco continuano le premiazioni E poi andremo a chiudere Eccoci qua Alle premiazioni Sempre per Acque VCO Sergio Belli E l'assessore Alle avviabilità Damiano Traligo Davide Se li tirano i premi ormai Tra i due assessori No tocca a te No tocca a me Bene Bene Perché sanno che comunque Sono premi di qualità Quindi ne vale la pena Soprattutto aprire il cesto E vedere che cosa abbiamo dentro Noi la chiamiamo un'altra volta Ci auguriamo che sia arrivata qua con noi Se no dovrà venire qua con la macchina A prendere i premi La seconda classificata È Sara Lepe Sara Lepe Eccola che è arrivata Arriva Brava Sara Ben arrivata Beh meno male così È come se fosse il podio di prima Quindi Abbiamo un podio di prima Possiamo metterla anche come Premiazione si può dire Ufficiale Con la premiazione Piero Giorzetti Di Veneto Banca Signori L'abbiamo vista prima sul podio La rivediamo un'altra volta Per la gara italiana Simona Giuliani Primo posto Brava Sempre Davide Parodi Un amministratore unico di sport E alla consegna E Damiano Traligo A consegnare il premio Alla prima classificata Adesso Possiamo fare una foto completa Bravi ragazzi Un applauso All'Italia Presente Rappresentata qui Su questo bellissimo podio Magari anche qualcosina di più Ragazzi Pur sempre le prime tre Anche della maratona Oltre che le italiane Bravissime Non costa niente Gli applausi Non costano Non costano Però penso che sia stanco Anche il pubblico Essere qua dalle prime ore del mattino Allora Con questa foto Noi prendiamo due o tre minuti di pausa Perché ci saranno poi le altre premiazioni Andiamo a recuperare E torniamo noi Torniamo noi in diretta Con un bel motoscafone Che sta girando Che cos'è un Tuttenente di motoscafi Che cos'è Uno Scarab Non lo so Non lo so Vorrei chiedere al mio amico Emanuele Ferrari Una barchetta Una barchetta Sì Quando vuoi dire la porti via Diciamo così È in saldo Ancora qualche istante An saldo An saldo Poi andremo a concludere Le premiazioni Andremo a concludere questa lunga diretta Siamo ormai In postazione da circa quattro ore E quindi veramente questa è stata Bella bella violenta Tra virgolette anche per noi Ma è stato un piacere Commentare con te Mauretto Questa Questa Lago Maggiore Marathon Perché si vede che Tra virgolette Fammi dire Ti eri preso bene Quando ti hanno detto Guarda che devi fare la telecronica della maratona Ti eri preso bene Ti sei preparato E quindi la cosa è stata Sicuramente Sicuramente positiva No Spero di essere stata una Spalla Una tua spalla Degna di merito Assolutamente Sì Promosso Promosso Mettiamo Otto in pagella Guarda lo scriviamo qua Otto Sei contento? Volevi qualcosa di più? Otto va bene Ok Troppo dopo Dopo troppo Il troppo stroppia Adesso dovremmo avere le premiazioni Dei 33 E della staffetta Perché evidentemente Ancora non è stata fatta Poi andremo a chiudere Questa nostra Diretta Che ricordiamo Sicuramente è andata in onda Anche a livello televisivo Su Viceo Azzurra TV Ma è stata raggiungibile Anche in streaming Sul nostro sito www.tuttonotiziae.info Lo trovate aggiornato Sempre Tutti i giorni Con cronaca Attualità Sport Con tutte le nostre produzioni Anche a livello Di Internet Appunto Vengono caricate Sul nostro sito Ma anche sul sito Della Lago Maggiore Marathon È andata in onda Questa telecronaca www.lagomaggioremarathon.it Quindi insomma Siamo stati raggiungibili Magari a New York Qualcuno ha visto La nostra diretta streaming Ha detto I wanna Go to race Vuole andare a correre La gara Sul Lago Maggiore E noi li accogliamo A braccia aperte Siamo qua Noi siamo qua Li aspettiamo E dunque Mentre continuano Gli arrivi Degli atleti Io penso che ce ne saranno Ancora per un'oretta e mezza Per quel che riguarda Gli arrivi Credo che poi Si possa andare A fare un applauso generale A tutti Coloro che si sono adoperati Per questa bella giornata Per questa bella cronaca Sino alla In attesa poi Dell'anno prossimo Della quinta Lago Maggiore Marathon E Della ottava Lago Maggiore Alf Marathon Che ripeto Quando che arrivano Dei pacemaker Questa è una bellissima Immagine Arrivano i pacers Che diciamo Hanno dato Un ottimo Un ottimo segnale Dal punto di vista Organizzativo A tanti Che vorranno venire A correre qua Nel Verbano Cusiossola Ai borghi Del Lago Maggiore Sempre più importante Anche il lavoro Dei pacers Si Si Sono stati Sono stati Molto importanti Molto importanti Anche loro Intanto le immagini Continuano Ad arrivare Adesso poi pian piano Noi li vediamo Anche arrivare qui In zona Noi siamo ubicati Più o meno Per capire A chi conosce Verbania Siamo ubicati A circa 200 metri Dall'arrivo Dove c'è l'imbarcadero Di Verbania Peraltro anche I battelli Che hanno fatto Avanti indietro Da Stresa A Verbania Le varie corse Così Scelte proprio Programmate Proprio Per la giornata Di oggi Dicevamo E Poi appunto Vicino alla zona Dove ci sono anche I ristori La zona massaggi E tutto quanto Questo mi sembra Sia Paolo Ottone Che gironzola davanti Alla nostra telecamera Riprende la bicicletta Va a dare un'occhiata È un impegno Da cui secondo me Allora tu hai detto In precedenza Che uno si riprende Dopo circa un mese Anche Paolo Ottone Una settimana Senza parlare Di strade Barattone Sì 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 Sicuramente Deva staccare la spina Per tutti Mica solo la spina Stiamo anche tutto Mettiamo via il decoder Lo lasciamo lì Lo prendiamo poi Un'altra volta No Adesso Questa era chiaramente Una battuta Però L'impegno organizzativo Di chi poi Ha la responsabilità Organizzativa Se vogliamo Certo È sicuramente intenso È sicuramente Sicuramente Di un livello Di un livello Di guardia Di un livello Di attenzione Molto molto alto Comunque poi Non finisce qua No Oggi pomeriggio No Non finisce qua Perché oggi pomeriggio Arriva il bello Il bellissimo Ti faccio da pace Mi fai da pace E guarda Volentieri Da 500 metri Potremmo ragionarci Mi fai da pacemaker Perché oggi pomeriggio Ci sono Le gare Benefiche E Alle 14 E 45 Ci sarà il via Della Lago Maggiore Bambini Run 500 metri Di gara Poi la Lago Maggiore Mini Marathon Due chilometri In compartenza Alle 15 E i ricavati Parte dei ricavati Di queste gare Andranno Assegnati Alle associazioni Benefiche Vicine agli organizzatori Che andiamo A citare Sono la Fondazione Per la ricerca Sulla fibrosicistica L'associazione Veronica Argento Onlus La Aisla Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica Onlis Dr. Clown VCO Amici del Cuore VCO Progetto Rebecca Fondazione Tonolli Aiutare i bambini Abio Associazione Bambini In ospedale Scuola Materna Don Bosco Di Villa Dossola Caro Bernardini Siamo arrivati Siamo arrivati Alla chiusura E allora Trentini e Bernardini Facciamo rima Andiamo proprio con Lini in finale Ricordandovi che Cristian Robini In due ore e ventotto Netti Ha vinto la Lago Maggiore Marathon Davanti a Connaghi E Blardone Prima Donna La Giuliani Prima della 33 Femminile Claudia Gelsomino Primo della 33 Maschile Ennio Frassetti Primo della Mezza Maratona Ivan Bressanelli I primi della classifica A Staffetta Sono stati Fasolo e Piana Con le immagini Della partenza Io ringrazio Tanto tanto L'amico Mauretto Bernardini Spero di riaverti qui Qualora ci sia La diretta Come pare Anche della Mezza Maratona Grazie davvero Io l'anno prossimo La Mezza Maratona Spero di essere Un protagonista Attivo Allora mandaci qualcuno Che possa prendere Il tuo posto Eventualmente Sono ancora Una carretta Come in questo periodo Volentieri Il posto è riservato Grazie davvero a te Davvero a tutti coloro Che si sono adoperati Registi, tecnici Operatori Speaker Che si sono adoperati Per la buonissima Riuscita Di questa Telecronica in diretta Della Lago Maggiore Maratona Speriamo davvero Di avervi dato Un prodotto Qualitativamente buono Con le immagini Della partenza Gianluca Trentini E Mauro Bernardini Vi ringraziano Per l'attenzione Grazie per non aver cambiato Canale Appuntamento All'anno prossimo Il grande bodismo Targato Sport Promotion Grazie E a risentirci Ciao All'anno prossimo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti